Bentornati, una nuova puntata insieme. Facciamo finta che in diretta subito un ringraziamento a tutti coloro che sono venuti dal vivo ieri a Milano, bellissima conferenza, bellissima atmosfera, bellissime persone. Grazie di cuore anche per tutti i nuovi iscritti, siamo quasi a 47 mila, quindi veramente di giorno in giorno cresciamo. Una delle puntate che ha avuto più successo è anche proprio la precedente, insieme al professor Mariotti, che ringraziamo per questa seconda puntata insieme. Bentornato Patrizio, come stai? Grazie, bene, buonasera a te, ovviamente al regista e ovviamente a tutti coloro che ti seguono affessionatamente. L'altra volta abbiamo parlato di Antartide, non so quante visualizzazioni abbia raggiunto, ma veramente tanta tanta gente, quindi ha avuto un bel successo, vi invito a recuperarla. Credo sulle 81-82 mila al momento. Caspita, quindi sono cifre considerevoli, quindi grazie di cuore a tutti coloro che l'hanno vista e condivisa, se non l'avete fatto avete ancora il tempo per poterlo fare. Quest'oggi è un po' correlato, nel senso che continuiamo a parlare, fra l'altro ringraziamo Mesbet in regia, anche lui reduce dalla live di ieri, una giornata passata a viaggiare, lo metteremo a dura prova, perché ci sono tante immagini, quindi lo metteremo a dura prova. Insieme al professor Mariotti, di tanto in tanto, tu Patrizio non ti fare problemi, chiamaci pure qualche immagine, fra me e lui cerchiamo di metterla, perché le immagini saranno importanti. Partiamo proprio da un libro che, fra l'altro, è già disponibile, quindi lo citiamo all'inizio, quello di cui parliamo lo troverete qui, eccolo qua. Ci vuoi dire qualcosa su questa? Sì, ovviamente, come vedete, si chiama Meridiano 361, Parallelo 181, Terra incognita e dintorni, Continenti scomparsi, Civiltà perdute, Città misteriosa e Luoghi segreti, volume 1. Questo va sottolineato in maniera abbastanza importante, perché in realtà l'opera scosta di due volumi, può darsi, chi lo sa, forse che ci sarà anche spazio e appendice per un terzo, ma insomma è un'opera abbastanza, diciamo, importante e voluminosa, perché ognuno dei due volumi per il momento previsti è di circa 300 pagine, un po' più forse anche, e quindi è stato opportuno dividere l'opera un po', perché insomma al giorno d'oggi con tutti gli impegni, con tutti i pensieri, con tutti i problemi, con tutte le, come dire, inquietudini che purtroppo avvolgono la nostra vita, da leggere libri di 600, 700, 800 pagine non è più facile per nessuno, e quindi mi sembrava quanto mai opportuno rendere la lettura non solo più snella, ma anche un pochino più contenuta, poiché gli argomenti trattati su questi testi, su questi volumi, sono veramente tantissimi e sono veramente variegati. Ovviamente, come ho detto dalla Sinossi, quindi anche dal sottotitolo, dei rincogni dei dintorni, ovviamente stiamo parlando di argomenti estremamente interessanti, affascinanti e misteriosi, ma soprattutto trasversali, perché chiaramente andiamo a parlare in quest'opera, in questo lavoro, diciamo così, dalla cartografia sconosciuta e misteriosa, alla paleogeografia, agli Opards, per esempio, a una parte, in questo primo volume, di continenti scomparsi e di civiltà perdute, a tutti i misteri che in questo ambito abitano e si collocano nella nostra penisola italiana, perché ce ne sono tantissime, vado a spaglio per dire la Tirrenide, piuttosto che l'isola Ferdinandea, la città sommersa di Baia, l'isola di Zanara, le isole scomparse dell'Arcipelago Veneto, la città sommersa davanti a Gabiccia e a Cattolica, quindi nella rivera romagnola, che pochissimi conoscono, piuttosto che l'isola bisentina, il monte Pomeo, come ingressi alla terra cava, o ancora il monte Pollino, le cavità romane, e quindi le cavità che in qualche modo si collocano all'interno o poco al di fuori della cintura dell'urba eterna, e quindi anche per quanto riguarda la nostra penisola andiamo a esplorare tantissimi luoghi, tantissimi segreti, tantissimi misteri, tantissime località. Per esempio nel secondo volume troverà certamente spazio, anzi ha trovato già al suo spazio anche l'antica pantelleria, piuttosto che alcuni luoghi particolarmente rilevanti e importanti dell'isola di Sardegna, e piuttosto che ancora alcune località importanti della Puglia e della Calabria stromontana, oltre che della Sicilia dei Nebbroti e dell'Etna, quindi insomma anche la nostra penisola è benissimo rappresentata nel primo ma anche nella seconda parte di quest'opera, naturalmente andiamo poi a esplorare con una sorta di viaggio trasversale tutti quelli che sono per esempio gli alimenti trascontinentali oceanici che ci dimostrano passo passo, a mano a mano, come romani, fenici, cartaginesi, in parte forse probabilmente egizi, ma soprattutto anche e soprattutto vichinghi, templari, personaggi legati al mondo dell'esplorazione in modo specifico e particolare hanno certamente visitato a più riprese le Americhe, in questo caso East Coast, molto prima di Cristoforo Colombo, e come invece taluni altri, soprattutto i cinesi e i polinesiani, abbiano visitato invece con una certa frequenza la West Coast, quindi tutte le coste del continente americano, lato occidentale, quindi lato pacifico. Naturalmente andremo a esplorare, siamo andati a esplorare, in questo lavoro sono andato a esplorare naturalmente tutto il discorso che riguarda, ancora una volta, e ci mancherebbe ovviamente l'Antartide, così come l'Artide, e naturalmente tutto ciò che ha a che fare con i luoghi misteriosi dell'Antartide e dell'Artide, così come la presenza tedesca in quelle zone, quindi dalla Noichwabbeland alla base 211, c'è la Noiberlin e al Lago Vostok, piuttosto che alla base di McMurdo, alla terra di Adelia, piuttosto che alla terra di Wilkes, il mare di Wedd, il mare di Ross, eccetera. Altrettanto andiamo a parlare di tutti quelli che sono le città e i luoghi misteriosi, che sono sia nel primo che nel secondo volume tantissime, è veramente una pletora, cioè veramente un coacervo di località, di notizie, di fatti, di misteri, e soprattutto, devo dire, di località che sono veramente, e di misteri, che sono veramente sconosciute ai più, perché naturalmente avremo anche la possibilità di esplorare, ovviamente come tutto il testo, in maniera trasversale, quindi per quanto possibile esaustiva, ma anche molto sintetica. Quindi il mio proponimento era quello di proporre ai lettori, a tutti coloro che sono curiosi di continenti scomparsi, civiltà perdute, di città misteriose e luoghi segreti, e di quanto connesso con tutti questi argomenti, una sorta di guida, una sorta di atlante, chiamiamolo così, di pronto utilizzo, molto, 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 come dire, succoso, ma contemporaneamente molto sintetico. Quindi veramente una sorta di breviario, una sorta di brontuario, di tutti questi argomenti riuniti in una sola opera, che credo sia poco presente, o forse per niente presente, nel panorama editoriale italiano, almeno a certi tipi di livelli. Naturalmente parliamo di geologia, e quindi di tutti i continenti scomparsi, e di tutti i continenti che si sono aggregati nell'arco di almeno un miliardo e mezzo di anni sul pianeta Terra. Parliamo delle più recenti scoperte, come per esempio la Doggerland, come per esempio il Kumari Gandam, come per esempio ovviamente il pianoro delle Mascarene o quelle delle Kerguelen, parliamo di Sundaland e di Sualand, quindi dell'Australia, che si estendeva fino alla Nuova Quinea, le isole della Sunda, piuttosto che tutta l'Indonesia, che fino al Marcinese meridionale era terra emersa. E ancora, ripeto, tocchiamo Paetiti, tocchiamo El Dorado, tocchiamo la città di Zeta, tocchiamo Akakor, tocchiamo naturalmente la città dei Cesari o l'urbe patagonica, tocchiamo il lago Baikal, le Oljus siberiane, la struttura di Rishak, Arantepe, che è la città gemella di Gokeplitepe nella Turchia orientale. Ovviamente parliamo delle piramidi, sia in Ucraina che in Crimea, guarda caso, proprio le due terre attualmente contese nella guerra che purtroppo sta insanguinando quella zona del mondo, con conseguenze fra l'altro per tutti. Andiamo a parlare di Pantiagolla, ovvero delle piramidi di Paratoari, andiamo a parlare di Shambhala, di Shangri-lai, di Agarti, andiamo a parlare ancora della Ciutat Blanca, della Venezia e della Micronesia, che è Nambadol, piuttosto ancora di Arvad e degli Anunnaki, del ponte di Rama, che si sviluppa nello stretto di Palco, fra Silon e la punta dell'India meridionale, quindi nel colfo del Bengala, e andiamo ancora a parlare, non a caso, del mondo infraterrestre delle gallerie, quindi di tutto il mondo delle città di Pogge, e quindi ancora una volta di Agarta, dell'Unterland, così come la chiamavano i tedeschi, e di tutto quello che è il mondo infraterrestre. Quindi veramente, fra l'altro, il libro si completa, almeno nel suo volume 1, che sta uscendo in questi giorni, anche con una curiosità piuttosto interessante, che è quella di Atlantropa, vale a dire il progetto. Sì, voglio solo tranquillizzare, nel senso che lui ha citato quello che sarà il programma di tutto, ma che non faremo stasera. Adesso rallentiamo e vi spieghiamo bene, perché giustamente... Sì, assolutamente. Cioè, hai proprio fatto una parolamica di tutto ciò che trovate in questo testo, in questi testi, perché sono più volumi. Sì, e fra l'altro, a fine chiacchierata, insomma, mi farà piacere evidenziare quella mezza dozzina di punti che secondo me emergono netti da questo tipo di percorso, di studio, di attraversamento, chiamiamolo così, e che evidenziano proprio alcuni punti nodali, secondo me, per la comprensione del percorso, dell'umana società e del percorso storico, e non soltanto quello di ciò che è accaduto su questo pianeta, almeno, almeno da un miliardo di anni in qua. E ci arriviamo. Allora, però stasera, quindi questo è giustamente l'anteprima di un corso, che faremo perché di tanto in tanto tornerai a trovarci. Per questa sera, rallentiamo un attimo, partiamo anche dall'ausilio di alcune foto, alcune sono già pronte, altre le troveremo, perché insieme a delle foto vedrete che questo programma cominciamo a raccontarlo bene. Quindi, professore Patrizio Mariotti, da dove partiamo? Il viaggio che hai pensato per noi di fare questa sera? Ma intanto, come dire, saltando un pochino magari la parte della cartografia e delle carte misteriose, è pure interessantissima, perché quella l'abbiamo anche se forse qualcuno che ha seguito la precedente chiacchierata che riguardava l'Antartide, un po' l'abbiamo toccata, perché parlavamo di Oronzio Filneo, di Mercatore, di Giacomo Prima Stuart, parlavamo della cartina di Bauce, parlavamo di quella di Viri Reis, quindi, diciamo, bypassando molto velocemente questo argomento qui, andrei a parlare, per esempio, di alcune opart, che sono particolarmente importanti e che, dal punto di vista non solo paleontologico, ma anche archeologico, storico e addirittura geografico o cartografico, ci mostrano come civiltà, addirittura antiche, di milioni di anni, ci hanno lasciato, in realtà, avevano già lasciato delle cartine geografiche del globo del Raguio su pietra. In questo caso stiamo parlando, prima di tutto, delle pietre di Ica, e quindi parliamo di Javier Cabrera d'Arquea, colui che, ecco, qui vediamo una delle pietre di Ica, e qui vediamo al centro il Sud America, è facilmente riuscibile, esatto, in basso si può vedere una riproduzione piuttosto abbozzata, ma comunque del continente antartico, a destra, verosimilmente, in prossimità del bordo africano, quella che era un po' la cosiddetta isola Atlantidea, o il continente Atlantideo, e dall'altra parte una massa continentale che certamente prevede anche Mu al suo interno. Quello che è interessante notare è che chi ha realizzato questa riproduzione litica ha anche evidenziato in qualche modo le dorsali oceaniche, soprattutto la dorsale che corre al centro dell'Atlantico, fra la Sud America, naturalmente, in questo caso, e l'Africa, e anche naturalmente quella che in qualche modo imparzialmente circunnaviga anche il continente antartico. Stessa cosa può essere ritrovata anche negli oggetti di Lamana, di cui adesso darò una breve descrizione, perché anche lì sono state ritrovate queste pietre che come potete vedere molto bene dall'allegoria parametrata, vedete bene che c'è il continente americano col nord e col Sud America soprattutto e con una massa continentale al centro dell'Atlantico. Dall'altra c'è una piccola, in questo caso abbastanza piccola, ma comunque significativa presenza diciamo di terre emerse al centro del Pacifico e in quella successiva quella sotto vedete chiaramente non soltanto l'India, non soltanto il sud-est asiatico, ma anche la penisola arabica, il corno d'Africa, il Mar Rosso e gli stretti di Ormuz e gli stretti di Aden e al centro, proprio al centro dove vedete quella linea bianca che sembrerebbe essere una linea comunque apparentemente di origine di genesi diciamo litografica, quindi di genere litica e di genesi litica, ma che comunque ha una sorta di centro topografico diciamo così, guarda caso strano proprio su quello che oggi è l'odierno Iraq quindi prima Babilonia, Mesopotamia e prima ancora Sumeria. Ecco, questi oggetti che sono stati trovati alla Mana faccio solo una pausa perché prima intorno al 1930 alcuni e poi soprattutto rivisitati dopo fra gli anni 60 e 70 sono di squisita fattura sumera, ma stiamo parlando di oggetti sudamericani perché la Mana si trova in Ecuador. No, dicevo perché noi siamo abituati quando si va a scuola in quello che un giorno parleremo anche dei programmi scolastici ci viene data una cartina No, dimmi pure Gianluca. No, dico è europacentrica questa cartina, no? Occidentale centrica. Ti sei frizzato però. Ah, ok, allora si vede che tu non riesci a... Pronto? Noi ti sentiamo, noi ti sentiamo e ti vediamo, se no tu prosegui pure, dicevo per gli amici a casa, noi siamo abituati a questa visione occidentale centrica, ma in tutte le cartine del passato di più scuole iniziatiche in realtà c'era proprio il Medio Oriente. Sì, adesso ti sento a via, prima però ti hai rifrizzato. Ok, non so se da casa mi avete visto e sentito, ok, allora o se no sono, magari era da te che non mi sentivi ma da casa mi sentivano. Quindi era solo una riflessione sull'Europa centrico barra Medio Oriente centrico che in versione antica è più corretto e lo si trova molto più spesso. Scusami a te. Sì, fra l'altro credo sarebbe come dire ancora meglio magari individuare nel Medio Oriente la mezzaluna fertile perché è quella che va dalla Valle del Nilo alla Valle del Turchi e delle Eufrate passando attraverso il Sinai, ovviamente la Palestina, la Siria, cioè la Siria, le propaggini meridionali chiamiamo della Turchia attuale dell'Armenia poi scendendo giù per il Tigre e l'Eufrate in quella che è Babilonia, Mesopotamia e ancora prima Sumeria. Per cui quella è la mezzaluna fertile ma dicevo a proposito degli oggetti di Lamana andrebbero ricordate alcune cose assolutamente interessanti e particolari. Intanto già negli anni 30 e qui ci ricolleghiamo all'argomento della nostra precedente chiacchierata di circa un mese fa le cosiddette SS Anenerbe si recano in Ecuador ed in Peru oltre che in Bolivia non soltanto per un progetto che riguardava la scoperta di giganti ma soprattutto per un progetto che riguardava anche la ricerca di piante psicotrope o iatrogene o allucinogene quindi comunque di stimolanti chiamiamoli così in altre sostanze in altre parole di sostanze simili alle anfetamine ma di origine ovviamente tutta naturale e soprattutto di utilizzo sciamanico ma anche cercavano delle erbe che erano capaci di liquefare la roccia quindi parliamo di quelle che io chiamo erbe litolisiche durante queste missioni delle SS Anenerbe e di alcuni studiosi particolari abbiamo avuto la possibilità di sapere che alcune di queste missioni si trovarono appunto in Ecuador e successivamente anche negli anni 60 e 70 per merito di alcuni studiosi del luogo e di alcuni ricercatori del luogo scusate che cerco di eliminare la suoneria e dicevo praticamente in queste zone in una sorgente peraltro che ancora oggi è utilizzata e per la quale ancora oggi viene commercializzata da un'azienda guarda caso austriaca un'acqua minerale che si chiama Aquador quest'acqua è ricchissima di colloidi d'oro e di colloidi d'argento oltre che di parti per alcuni aspetti anche di platino da quello che mi risulta è di rame e soprattutto è oltretutto anche un'acqua con una discreta percentuale di biofotoni quindi è veramente un'acqua della cosiddetta gioventù o eterna giovinezza o buona salute tant'è che le popolazioni che abitano intorno alla mana non infrequentemente soprattutto fino a un po' di lustri fa da quello che dai report che insomma anche io ho avuto modo di acquisire fra l'altro quell'acqua l'ho bevuta e l'ho anche usata per contribuire alla guarigione di una ferita ed ha avuto un discreto effetto più che buona efficacia ma dice a costa molto cara peraltro quest'acqua dicevo è un'acqua che ha consentito e probabilmente ancora oggi consente agli abitanti di quella zona di avere figli per quanto riguarda gli uomini anche a 80-90 anni e per quanto riguarda le donne anche a 60 e più anni inoltrati e di avere una vita piuttosto lunga sicuramente ultracentenaria con una possibilità e una condizione diciamo fisiologico anatomico meccanica che gli consente di continuare a lavorare i campi in altura e quindi comunque a quote che sono un po' più alte di quelle del livello del mare anche a 90 anni 80 anni o a 100 anni d'età quindi questo tra l'altro è già provato ma quello che è stato più straordinario è che questi oggetti di la mana sono stati ritrovati certamente all'interno di questa fonte proprio dentro la grotta da cui sgorga quest'acqua e lì dentro sono state trovate una piramide che se hai la fotografia potresti mostrare sono stati trovati ovviamente no questa è l'isola di Nandera esatto eccola qua e come vedete questa è proprio la classica piramide con i 13 livelli esattamente come quella che si trova sul retro della moneta da un dollaro e c'è anche l'occhio al centro come potete vedere da queste immagini una delle particolarità di tutti questi oggetti è che questi oggetti se illuminati dalla luce di buzzo da luce ultravioletta diventano assolutamente fosforescenti e fluorescenti la diciamo la fattura e le caratteristiche proprio morfologiche strutturali di tutti questi oggetti sono di fattura squisitamente sumera ma ricordo che questi oggetti hanno alcuni migliaia di anni di età e si trovano in Ecuador fra l'Equador e la Sumeria c'è una certa distanza chilometrica mi sembra di poter dire posso chiederti se mi senti perché noi abbiamo dedicato e stiamo facendo una ricerca anche su questo abbiamo parlato anche del cibo degli dèi del loro monatomico e di come in realtà l'oro possa anche essere insieme ad altre sostanze il segreto per una vita lunga e quindi tu ci stai dicendo che questa fonte un po' di eterna giovinezza mi viene in mente anche un film Cocoon in cui c'era questa fonte in cui si tornava a una vitalità inaspettata però più che la fonte erano i gusci che erano come dire particolarmente come dire disorgente frequenziale buona per un ringiovanimento o per un rinvigorimento del corpo fisico però c'erano da padrone la facevano anche proprio i metalli perché tu ci stavi raccontando proprio la composizione di questo tipo di acqua molto particolarmente ricca di biofotoni si trova nella piscina di Lourdes attenzione attenzione quindi comincia allontanandosi un attimo i puntini cominciano ad avere una loro una loro logica ha un suo perché quindi torniamo pure alla lezione però su questo vedo anche la chat è veramente interessata l'equatore può centrare anche la ricerca di Eldorado in tutto questo di Eldorado ne parlo sempre nel testo fra l'altro se volete ne parliamo apriamo una piccola parentesi come qualunque altra cosa mi potete chiedere che è inerente in questo caso agli argomenti o connessa chiaramente poi secondo quelle sono le mie possibilità di parlare di tutto lo scibile umano ma insomma andando avanti dicevo gli oggetti di Lamana sono peraltro particolarmente interessanti anche per altri motivi intanto viene rappresentato insieme con tutti questi oggetti che sono tanti sono diversi fra l'altro esposti negli anni 90 in una bellissima mostra a Vienna esposti trasportati dall'Equador in Austria e esposti a Vienna in una bellissima mostra che si chiamava Insolved Mysteries cioè misteri irrisolti e di cui esiste un cd o meglio un dvd particolarmente carino dove vengono proprio spiegate nel dettaglio tutte queste scoperte tutti questi oggetti dicevo da un punto di vista strettamente biozoologico che viene rappresentato ed è anche molto bello da vedere se cercate sugli oggetti di Lamana nelle fotografie nelle icone lo trovate viene rappresentato un cobra il quale cobra non soltanto ha a che fare nella sua rappresentazione anche di tipo simbolico con la Kundalini e quindi con il chakra ma ha a che fare come serpente in quanto tale e mi sento di poter dire che nel continente americano sia del nord sia mesoamericano del centro sia sudamericano del sud sono presenti tutta una serie di elapidi sono tutta una serie di erpetofauna che sono per esempio i crotalidi tutti conoscono il serpente assonagli tutti conoscono ovviamente i viperidi ce l'abbiamo anche qui in Italia in Europa tanto per dirne una ci sono naturalmente i colubri o meglio i colubridi come da noi c'è il biacco il settone il cervone la natrice viperina eccetera eccetera e ci sono naturalmente i boidi in questo caso nel sudamerica come l'anaconda eccetera eccetera non il pitone perché quello è africano e asiatico ma non esistono i lapidi cioè non esistono cobra e quella è la rappresentazione di un cobra tre o quattromila anni fa di fattura sumera in Ecuador chi ce l'ha portata come conoscevano il cobra questa gente e perché l'hanno rappresentato così ancora più straordinario e poi mi dà cito se no occupiamo quasi tutti gli argomenti con gli oggetti di lamana che però sono straordinari assolutamente sono rappresentati su questi oggetti di lamana un omino in ginocchio con un copricapo molto strano con delle antenne un oggetto volante sulla testa di questo omino delle scariche elettriche o comunque dei fulmini che arrivano e c'è rappresentata anche una parte centrale della testa di questo omino che sembra come dire ricevere dei messaggi dall'alto da questo oggetto ma gli oggetti sono tantissimi ci sono rappresentate delle costellazioni dei pianeti molto particolari insomma lamana è veramente un concentrato di misteri e di affascinanti e al momento ufficialmente risolti almeno ufficialmente l'altro aspetto che è quello delle pietre di Iga di cui parlavo prima è altrettanto affascinante perché stiamo parlando se fai vedere l'altra fotografia ecco qui vediamo un'umanità umanoide per le sue fattezze che però si sta occupando dell'uccisione di un dinosauro ovviamente stiamo parlando di pietre che rappresentano una coesistenza a volte pacifica a volte di addomesticazione a volte di predazione o di uccisione di quasi tutta la fauna paleontologica che noi conosciamo a partire dalla fine del XIX secolo con la nascita proprio dello studio della scienza della paleontologia e quindi sono opart a tutti gli effetti su queste pietre troviamo la rappresentazione dei continenti scomparsi troviamo la rappresentazione di operazioni chirurgiche a cuore aperto di operazioni al cervello e sulla spina dorsale di operazioni di parti cesarei e anche di parti di parti diciamo di gravidanze particolari fra cui fra l'altro la presenza nel caso di donne o meglio di personaggi con determinati tipi di patologie che possiamo solo intuire dai disegni e dai rilievi fatti su queste pietre che passano a livello proprio di plasma proprio a livello di endovena il loro fluido il loro sangue o il loro fluido corporeo a questi malati la scienza ha dimostrato che il prelevo di sangue o di altri liquidi linfatici o comunque organici da donna incinta predispone il ricevente quindi il malato la persona ricevente a tutta una serie di benefici che sono tipici anche di quelli del feto per preservarli da tutte le infezioni da tutte le malattie e da tutte le anomalie possibili e immaginabili e questi sono rappresentati sulle pietre di Iga così come sulla pietre di Iga è rappresentato lo sviluppo embrionale di alcuni rettili e di alcuni anfibi e mi viene da dire che questa rappresentazione graduale può avvenire al giorno d'oggi o meglio da qualche decennio qua solo grazie all'invenzione del microscopio elettronico qui stiamo parlando appunto di un'umanità che era coeva dei dinosauri quindi parliamo di almeno prima di 65 milioni di anni fa cioè quindi prima del di Xulub quindi del grande impatto a terra nello Yucatan che determinò la scomparsa della maggior parte dei dinosauri e quindi stiamo parlando di un altro come dire enigma incredibile e fantastico a dir poco che però ha perfettamente documentato Giave Cabrera d'Arquea nel suo bellissimo libro dedicato proprio alle pietre di Iga e che invito chi ci ascolta a trovare anche perché si può tranquillamente scaricare dalla rete in pdf gratuitamente quindi questo tanto per dirne una per completare un po' questo escursus che riguarda un po' ma come attraversa in realtà tutto il volume 1 ma anche il volume 2 perché poi la struttura dell'indice è praticamente similare o quasi uguale e speculare per tutti e due i volumi ma praticamente ecco un'altra cosa importante sono gli alimenti transcontinentali e oceanici credo voi abbiate a disposizione almeno un'immagine dell'ananas che mangiavano gli antichi romani ovviamente le classi elitarie non certo gli abitanti della subburra o le classi plebee eccolo l'ananas che vedete in questa fruttiera e che fra l'altro sono visibili a Roma sia a grotte celoni negli scavi di una villa romana patrizia molto importante ma anche al museo massimo di Roma a piazza dei 500 alla stazione Termini fra l'altro è una curiosità che c'entra poco e nulla con quello di cui stiamo parlando ma insomma è una curiosità che mi va di estrinsecare di come dire in qualche modo estendere a chi ci ascolta credo che se chiediamo a mille italiani perché piazza dei 500 alla stazione Termini a Roma si chiama così 400 999 non lo sanno in realtà sono i 500 nostri caduti in Eritrea durante le prime fasi della conquista dell'Eritrea e poi successivamente dopo sappiamo bene negli anni 30 del secolo scorso dell'Etiopia che caddero praticamente in una battaglia famosa erano 500 e sono morti tutti in quell'occasione per questo piazza dei 500 si chiama così chiusa parentesi dicevo allora abbiamo la nona la nona squamosa abbiamo il gran turco abbiamo l'ananas e abbiamo anche altri tipi di frutta esotica che venivano consumati con una certa regolarità a partire dal secondo e dal primo secolo dopo Cristo dalle classi elitari e più ricche e potenti del senato romano e delle classi patrizile perché tutto questo perché sembrerebbe o meglio è abbastanza certificato sia pur con le solite diatribe sia pur con le solite come dire modalità di debunking e di cover up o di super confusion come io l'ho chiamata molti anni fa tutte le notizie che vanno a dare fastidio alla vulgata popolare ai media mainstream e all'ortodossia scientifica e accademica naturalmente vengono coperte o nascoste o denigrate o comunque rese confuse e disturbate nella migliore delle ipotesi comunque ci sarebbero almeno due navi romane trovate alla foce del rio grande do sul cioè che è il fiume che divide in realtà il Texas dal Messico attualmente e ci sono diverse vestigia romane soprattutto nella città di Comalcalco nello Yucatan che è una città maia Comalcalco è una città dove troviamo i mattoni fabbricati unici in tutto il panorama mesoamericano naturalmente quindi non li troviamo dagli Astechi dai Toltechi dagli Olmechi dagli Zapotechi non li troviamo ovviamente neanche sui Maya ma nella città maia di Comalcalco troviamo i mattoni romani troviamo le dubbature di piombo uguali a quelle che erano fatte nella civiltà romana troviamo rappresentazioni di cavalli e noi sappiamo che il cavallo in realtà sembrerebbe nascere in America cioè oippus miocenicus nel pieno miocene ma questo animale poi scompare completamente dal continente americano sia del nord sia del centro che del sud tant'è che la storia e in questo caso credo realisticamente ci racconta che le popolazioni mesoamericane e sudamericane per la prima volta vedono il cavallo attraverso Hernán Cortés e Francisco Pizzarro ma è rappresentato il cavallo a Comalcalco sono rappresentate le briglie sono rappresentati i carri trainati da cavallo e soprattutto sono rappresentati ornamenti e orpelli di carattere tipicamente greco-romano e soprattutto uomini con la barba e con le capelli ricci e molto folti tutte caratteristiche che come sappiamo bene gli indi sia i vele rossa nativi americani sia i mesoamericani che gli andini sudamericani non hanno proprio né dal punto di vista fisiognomico né dal punto di vista ovviamente anatomico corporeo quindi questa città è stata certamente visitata dai romani perché non ci sono altre spiegazioni la stessa cosa possiamo dire a proposito di molte altre essenze per esempio il Gran Turco viene citato anche da Blinio il Vecchio nella sua Historia Naturalis tutte cose che trovate nel mio volume nel mio libro e naturalmente viene citato come grano indiano ma in realtà lui dice questo miglio scuro lo chiama miglio grano ma in realtà è proprio il mais in realtà è il mais scuro come ne esistono tanti anche di colore nero di colore rosso di tanti colori nelle varie cultivar del mondo e veniva citato che veniva coltivato soprattutto guarda caso strano nella Caglia Cespadana cioè in quella che oggi è la pianura padana altra cosa che ci viene raccontata è che sempre da parte di Blinio ci viene raccontata anche la presenza sulle tavole romane anche non solo di frutti che in qualche modo somigliano molto al mango e naturalmente ci vengono raccontate anche altre cose fra queste nel 1989 non lontano forse proprio da un altro luogo che viene trattato nel libro e cioè a proposito dell'Italia cioè l'isola di Zanara l'isola che fino al 1600 si trovava fra l'isola del Giglio e Giannudri di fronte all'argentario e di cui oggi forse un bravo perfetto e di cui forse oggi i cui resti possono essere forse la secca delle vedove e forza anche ma credo siano più legati a vestigia della Tirrenite di cui se vorrete parleremo anche nella cosiddetta secca di Mezzocanale dove chi vi scrive molti anni fa quando ero un po' più giovane si è immerso e ha trovato appunto sotto questa collina sottomarina queste vestigia questa città i resti di questa città antichissima le tracce perimetrali di questa città antichissima e dicevo praticamente che proprio vicino all'isola del Giglio viene recuperata una nave romana del primo secolo dopo Cristo dentro questa nave vengono trovate delle valigie perfettamente o meglio dei contenitori ancora perfettamente ermetici dopo duemila anni che erano certamente appartenuti a un medico romano e dentro queste valigie o meglio questi contenitori oltre agli strumenti quindi eccoli potremmo dire i ferri chirurgici i ferri del mestiere c'erano anche delle scatolette perfettamente sigillate ancora poi aperte dove all'interno c'erano delle pastiglie perché quindi pure gli antichi romani e gli antichi greci prendevano pastiglie come le prendiamo noi ancora oggi e all'interno di queste pastiglie sono state trovate ovviamente carota sedano cipolla aglio quant'altro ma anche ibiscus e girasole ora l'ibiscus è stato probabilmente portato ovviamente all'interno dell'impero romano dall'Etiopia e comunque da terre del corno d'Africa o comunque del subcontinente indiano mentre il girasole è un'altra pianta tipicamente americana come facevano gli antichi romani ad avere il girasole schiacciato in polvere dentro le loro pasticche se l'America è stata scoperta soltanto 1500 anni dopo da Cristoforo Colombo e questa è una delle tante cose che andiamo a come dire a repertare ad elencare in questo volume in questo report storico ovviamente è molto interessante perché io chiaramente ho preso chiaramente alcune informazioni anche da un libro molto bello di Elio Cadello che si chiama ce ne sono due versioni una che si chiama quando i romani andavano in America e lo cito molto volentieri perché è una persona di cui ho grande stima per il lavoro che ha fatto e l'altro era gli oceani degli antichi quindi per chi si volesse maggiormente documentare può cercare qualcosa anche su questi testi del resto li trova comunque in bibliografia alla fine del mio libro ancora a proposito di tutto questo entrando diciamo in quella che è specificamente la nostra penisola vorrei ricordare che per esempio la tirrenide che ho citato prima non soltanto secondo molte fonti era probabilmente una colonia mediterranea degli atlantidei o di atlantide o di alcune colonie di atlantide che forse potrebbe essere forse più preciso e ancora più mirato probabilmente ma soprattutto la nostra penisola e la Sardegna e la costa della Toscana e le coste dell'Alto Lazio e l'arcipelago toscano conservano ancora intatte delle tracce importanti della tirrenide non soltanto per le presenze sottomarine come nel caso della secca di Mezzocanale o di altre località sottomarine dell'arcipelago toscano perché in realtà in quel tempo la tirrenide aveva un'estensione territoriale in cui l'Arno andava a sfociare non dove sfocia adesso cioè a Marina di Pisa ma in realtà sfociava al dito della Giraglia cioè al dito della Corsica e il Tevere che era chiamato Fiume Albulo in realtà non sfociava dove sfocia oggi cioè a Ostia per chi conosce Roma e Lazio ma in realtà sfociava nei pressi di quella che oggi è l'isola di Ustica quindi era tutta terra emersa e si poteva andare tranquillamente a piedi da Roma alla Sardegna senza toccare mai l'acqua la stessa cosa vale per l'arcipelago toscano che la rimanenza le cime delle montagne è più alte di quella che a un tempo era la Tirrenite Sardoporza Toscana ancora oggi il centro topografico di tutta la Tirrenite è l'isola del Giglio e esistono tutta una serie di endemismi come per esempio il carrubo piuttosto che il ligustro che sono delle piante che esistevano ancora al tempo della Tirrenite quindi stiamo parlando di 15, 20 mila 25 mila anni fa esistono ancora oggi degli endemismi biologici come il disco glosso che è un rospo come il Peloba de Fosco e addirittura come il Prolago che fra l'altro è una sorta di entità criptozoologica perché appartiene alla Sardegna si dice o meglio si pensa che sia presente con pochissimi esemplari sull'isola di Tavolara altra particolarità perché l'isola di Tavolara teoricamente non è stato italiano ma è stato di una famiglia che la detiene su diciamo istanza sul reggia istanza del re Vittorio Emanuele III anzi Vittorio Emanuele II e poi III ma questa è un'altra storia e praticamente questo Prolago è una sorta di incrocio fra un coniglio arcaico e una sorta di potremmo definirle una sorta di ibrido con un ratto come dire campagnolo non si sa bene se sull'isola di Tavolara ci siano o meno le ricerche sono in corso ma insomma il Prolago è anche un protagonista della Dirremide così come alcuni tipi di curculioni di come alcuni tipi di insetti e quant'altro altra cosa che possiamo raccontare a proposito della nostra penisola e che è ben trattata nel libro chiaramente sono gli ingressi alla Terra Cava o Unterland come lo chiamavano le SS Nenerbe o Abita dell'Intercapetine come l'ho chiamato io già molti anni fa o Presenza Infraterrestri o Civiltà Ivogea come lo chiamano altri ricercatori perché per esempio sul Monte Pomeo quindi a Ischia purtroppo è tristemente famoso proprio in questi giorni perché dalla cima di questo monte è venuta giù purtroppo quella frana quella slavina di fango e acqua che purtroppo abbiamo visto con conseguenze purtroppo ferali e l'altra cosa è che nel Monte Pomeo e nelle coste di Ischia ci sono tutta una serie ed è io sono stato anche lì quindi posso testimoniarlo anche io soprattutto a Panza a Monte Sant'Angelo in varie zone nella Grotta del Mago eccetera ci sono tutta una serie di gallerie tutta una serie di grotte di cavità naturali eccetera eccetera che si addentrano all'interno dell'isola e che in buona parte sembrano addirittura addentrarsi con cammini verticali verso la cima del Monte Pomeo che naturalmente è un vulcano va da sé che dopo la seconda guerra mondiale la cima del monte è presidiata da elementi americani con una stazione radio e che l'altro ingresso più famoso di tutti alla Terra Cava almeno del centro Italia è l'isola Bisentina sul lago di Bolsena anche lì è visitata abbondantemente negli anni 30 e 40 dalle SS e le Nerbe che erano alla ricerca affannosa e faticosa in tutto il mondo di ingressi a Unterlande quindi al mondo sotterraneo naturalmente parliamo di cose similari anche per quanto riguarda il Monte Pollino nel parco nazionale appunto del Monte Pollino e del Monte Dolce Dorme che in realtà è più alto del Pollino e naturalmente parliamo di questo anche a proposito di un'altra particolarità se così vogliamo chiamarla del nostro paese che è veramente conosciuta da pochissimi e cioè nel mare antistante il tratto di mare antistante fra Gabice e Cattolica quindi parliamo della classica Romagna come dire dell'estate Felix chiamiamola così quella vitaiola delle discoteche delle tedesche che scendevano in massa insomma ormai è cultura popolare tutto ciò da molti decenni proprio in quel tratto di mare e alla foce del fiume Conca si trova proprio una città che si chiama Conca città approfondata è tuttora cercata ci sono delle vestigia ci sono delle vestigie archeologiche in mare davanti a questa ecco perfetto di fronte a questa costa e probabilmente c'erano delle città o delle come dire delle costruzioni di carattere medievale che si sono a sua volta come dire incistate su precedenti costruzioni romane e probabilmente ancora prima greco classico ed etrusche quindi questa è un'altra particolarità che c'è e ancora per tornare alla nostra penisola nel nostro libro troviamo tutte le isole della laguna veneta che non ci sono più perché risalendo storicamente al passato più recente quindi due o tre quattro cinque secoli fa nella laguna veneta esistevano altre undici barra tredici isole che oggi non ci sono più e che insomma nel volume vengono trattate in maniera sintetica ma insomma piuttosto esaustiva la stessa cosa ancora sempre per quanto riguarda l'Italia va detta a proposito di alcune particolarità che si riscontrano anche nel territorio laziale romano a proposito di cavità artificiali cavità particolari misteriose e quant'altro e quindi diciamo che il testo è abbastanza pregno di cose che riguardano la nostra penisola e continueranno poi continuano anche nel secondo volume perché ovviamente ci sono altri argomenti che vengono trattati sempre riguardo l'Italia ancora possiamo parlare tranquillamente perché nel in questo volume per quanto riguarda i continenti scomparsi ovviamente parliamo di Mu parliamo di Agarti parliamo di Agagor parliamo un po' delle civiltà epogee parliamo un po' di Gran Cartaria argomento che tu so che hai trattato con Tom Bosco e naturalmente parliamo di Atlantide 2021 in quel caso specifico sia per Mu che per Atlantide 2021 dovresti avere qualche immagine che ti ho esteso e che ci può far vedere la cartina di com'era questa situazione legata appunto al fiume al fiume Tamarrasset se il nostro regista è in grado di trovarla la foto di Lemuria no di Mu di Muria di Mu perché Lemuria è argomento del secondo volume ecco qua questa è la cartina di Mu naturalmente ma come molti di voi sapranno perché un po' come Atlantide appunto un po' come Iverborea un po' come altri grandi 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 tematiche del mistero e dei continenti delle civiltà perdute scomparse diciamo Mu è particolarmente famosa naturalmente affrontiamo tutto il discorso diciamo a mano a mano con James Churchward che è l'ex colonnello dell'esercito inglese che risiedendo in India dopo il servizio permanente effettivo trascorre molti mesi anzi alcuni anni in un ashram quindi in un monastero hindù e dopo aver essere diventato amico del del sacerdote che teneva questo ashram questo monastero questo tempio ovviamente viene a scoprire all'interno di questa struttura delle tavolette antichissime che verranno poi chiamate Nakal e che riveleranno a mano a mano nello studio che Churchward farà la storia di questo continente un continente che si trovava aveva avuto a quanto sembra da quanto ci dice Churchward il suo apogeo cioè la sua massimo splendore intorno ai 50.000 anni fa che si sviluppava al centro dell'oceano pacifico aveva circa 65 milioni di abitanti e tre o quattro etnie diverse fra loro di cui la dominante era l'etnia bianca il suo re si chiamava Ra Ra Mu guarda caso strano un nome che naturalmente ci evoca vicinanze alla valle del Nilo molto molto strette e naturalmente il simbolo era il fiore di loto e con il sole con il sole insomma abbinato e una cosa una delle diciamo particolarità che possono essere dette è che in tutto l'oceano pacifico e per esempio parleremo di Namadol a questo proposito o di Kanung Padang la grande piramide forse una delle più grandi piramidi in assoluto del mondo scoperte in Indonesia ma dicevo a proposito di Mu Mu ebbe un po' come Atlantide e un po' come il Kumari Kandam che era l'altro continente che si stendeva appunto dalla punta meridionale dell'India quindi dagli stretti di Balk e fino a praticamente al Madagascar e probabilmente nelle vicinanze delle coste occidentali dell'Australia questo continente che si chiamava appunto Kumari e che era diciamo in qualche modo appannaggio di quella che poi oggi è diventata la cultura Tamil quindi Silone quindi appunto Sri Lanka eccetera eccetera erano erano le grandi masse continentali che si trovavano emerse prima di alcuni impatti cometari prima dello scioglimento dell'ultima era glaciale che ricordo a tutti come forse già sapete o saprete che lo scioglimento circa i 13 e gli 11.000 anni fa dell'ultima grande era glaciale ha portato a un innalzamento dei mari di 155 metri in tutto il mondo e poiché noi sappiamo che tutte le civiltà umane anche quelle ovviamente tecnologiche progredite evolute e quant'altro si sono sviluppate non sempre ma per la maggior parte sulle coste sui mari alle foci dei fiumi che si trattassero di estuari o di delta o comunque in zone diciamo bagnate dalle acque ecco che 11-13.000 anni fa un innalzamento dei mari di 155 metri ovviamente ci ha sottratto la gran parte delle civiltà che si trovavano sulle coste di tutto il mondo e questa è una delle ragioni per cui ancora oggi la maggior parte delle vestigia più misteriose più affascinanti e più come dire intriganti sono vestigia sommerse come le piramidi delle azzorre di cui nel mio libro si parla come la piramide delle bermude di cui si parlerà nel volume di cui si parla nel volume secondo come altre strutture piramidali presenti in altre zone del mondo ma nel nostro testo parliamo anche e soprattutto fra le altre luoghi segreti e città misteriose parliamo anche delle piramidi di Ucraina e Crimea altra zona che ci riguarda molto da vicino per la guerra che ormai a febbraio purtroppo farà un anno di conflitto ma si trovano proprio in Crimea nel Donbass e vicino allo stretto all'Istmo di Perekop quindi non lontano neanche da Gerson ecco questa è Ganung Padang questa è la grandissima piramide che si trova ovviamente in Indonesia e che è data 30-40 mila anni quindi io non disdegno affatto di ascriverla a una colonia di Mu o a una successione di Mu perché dicevamo prima che Mu un po' come per Atlantide il Kumari Gandam riprendendo il filo del discorso interrotto ha subito varie inondazioni varie sommersioni e varie catastrofi di tipo sia orogenetico che di tipo piroclastico perché fra l'altro come tutti sappiamo il pluceno pacilio è circondato dal Ring of Fire cioè dall'anello di fuoco ci sono centinaia di vulcani che da quello che ci racconta James Churchward ed altre testimonianze non soltanto sono partiti in gran parte tutti insieme ma hanno generato tutta una serie di sismi tutta una serie di terremoti tutta una serie di sommovimenti orogenetici che hanno portato a una prima sommersione di Mu e a una successiva seconda sommersione dopo alcuni altri migliaia di anni a causa di maremoti tsunami ed altri fenomeni come dire poco gradevoli di questo genere l'eredità di Mu sembra essere stata portata attraverso i sacerdoti Nakal soprattutto nell'Indocina soprattutto nel sud-est asiatico quindi quella che oggi è Indonesia Sumatra Java quello che oggi è Vietnam Cambogia Birmania Laos eccetera eccetera e da lì portata poi in India e appunto queste tavolette poi si sarebbero trovate lì fra l'altro e questo credo sia abbastanza conosciuto sono state riscontrate alcune similitudini relative per esempio con le tavolette rongorongo dell'isola di Pasqua ma soprattutto delle importanti similitudini con alcune popolazioni nativo-americane quindi pelle rossa nativi americani del sud-ovest degli Stati Uniti quindi soprattutto nella zona di Chaco Canyon quindi il Puebla quindi gli Anasazi quindi tutta una serie di popolazioni che sarebbero esuli di Mu giunte su quelle terre dopo la sommersione del continente ma anche e soprattutto grazie a Niven altro scopritore di migliaia di tavolette di questo tipo in Mesoamerica sempre coevo diciamo alla presenza di Churchward tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento in India e in sud-est asiatico dove viene dimostrata in maniera secondo Churchward e Niven abbastanza come dire coerente il fatto che alcune delle civiltà mesoamericane soprattutto della West Coast quindi della costa del Pacifico siano state imprintate iniziate originate e plasmate dagli esuli di Mu dopo la scomparsa di questo continente aggiungo ancora che una delle principali e più antiche divinità giapponesi che è Amaterasu quindi una delle idee originarie una delle idee principali del Giappone in realtà era una divinità di Mu e ne parliamo sempre nel mio libro ovviamente se si cita il Giappone se si cita Amaterasu e se si cita Mu non può non essere possono non essere citate le scritture piramidali di Yonagumi di cui parliamo anche in questo caso sempre nel nostro volume a proposito invece delle piramidi ucraine nel secondo volume parleremo anche di quelle di Kola e di molte altre ma soprattutto a proposito di quelle ucraine sono stati trovati condotti e sono state trovate gallerie assolutamente artificiali e addirittura levicate come alabastro e come onice ma questo è stato trovato anche in Sud America alcune testimonianze di questo di questo ce ne parla o meglio ce ne accenna Percival Poset quando scompare alla ricerca della città di Zeta alcune di queste cose sono molto simili anche a gallerie sotterranee sia a Tiahuanaco in Bolivia sul lago di Titicaca sia a Pumabunku che rispetto a Tiahuanaco è meno conosciuta ma secondo me è straordinariamente ancora più fantastica e strabiliante della stessa Tiahuanaco dicevo in tutto questo sono state trovate molte gallerie e queste gallerie comunicano addirittura non soltanto la Crimea con la penisola del Kuban e con il Donbass ma addirittura con il Caucaso quindi e tutte queste strutture sono state fatte risalire dagli archeologi dai paleontologi dagli ingegneri dai ingegneri minerari e dai geologi dell'Accademia delle Scienze di Mosca e anche di San Pietroburgo e di Volgograd ieri Stalingrado oggi Volgograd come risalenti a almeno 8-6 milioni di anni anni fa quindi abbiamo citato prima la civiltà glittolitica nel secondo volume parlerò della civiltà eocenica e tu che hai intervistato il Rabdo Team sai di cosa parlo stiamo parlando di una storia dell'umanità che viaggia fra quella della principessa di Sulski fra quella del del grande reattore del Gabon fra quella appunto dell'eocenica o quella glittolitica di Cabrera d'Arquea fra il più vicino 30 milioni di anni fa il più lontano 2 miliardi di anni fa se noi pensiamo che per la volgata popolare e per l'ortodossia stiamo parlando della civiltà umana che si sarebbe sviluppata dal quale come Homo sapiens sapiens e poi Cro-Magnon non più di 6-8 mila anni fa e per fortuna che la scoperta di Gogebli Tepe e di Karantepe di cui parlo ovviamente sia nel primo che nel secondo volume l'ha già fatta ritrodadare di almeno 5-6 mila anni l'altra importantissimo diciamo punto caposaldo di questo tipo di percorso storico all'indietro è quello della cosiddetta importantissima città più antica ipoteticamente città più antica del mondo vale a dire della città che sono state trovate così come le miniere tecnologicamente scavate e tecnologicamente strutturate per scopi minerali naturalmente quindi per l'estrazione di minerale aurifero quindi una fattispecie di oro sono state trovate nell'Africa nel Sud Africa centro orientale più orientale che centro e che corrispondono pressoché coerentemente con la famosa Abzu degli Annunaki di Zakharaya Sitchin e anche a questo proposito sul mio testo trovate un ampio capitolo dedicato proprio a queste miniere a queste città del Sud Africa che risalgono a circa 220.000 anni fa quindi se diciamo almeno per quanto mi riguarda continuo a sentirmi dire che la civiltà umana sorge circa 6.000 anni fa più che da piangere ormai mi viene da ridere per cui queste sono solo alcune delle come dire dei tratti o meglio dei punti notali che vengono a incrociarsi in questo lavoro che appunto per la sua trasversalità e per la sua omnicomprensività per quanto umanamente mi sia stato possibile ovviamente va a come dire supportare una concezione una una visione diciamo del mondo che vuole necessariamente essere profondamente diversa da quella che la scuola la scienza l'accademia la religione la sociologia la filosofia e quant'altro ci hanno dato fino ad oggi quindi questo è proprio un testo per fare diversa informazione dico apro solo una parentesi perché voglio anche così approfitto anche per dare un suggerimento ai nostri amici da casa perché siamo in tantissimi siamo quasi all'ora e siamo più di 1100 persone contemporaneamente visto che questa è una lezione veramente avanzata io vi do anche un consiglio il bello anche di youtube è di fruire di tutta la diretta e poi ascoltare e riascoltare più volte questa puntata anche mettendo pausa prendendo proprio appunti delle parole chiave il bello del professor Mariotti che cita proprio delle parole chiave che sono spunti di ricerca quindi uno l'ascolta tutto di filato e poi può fare anche proprio delle ricerche per vedere questi puntini come si uniscono perché stiamo stoccando questa sera delle tematiche veramente di livello avanzato e veramente che mettono in crisi la versione ufficiale di cui si parlava prima ecco questo questo sicuramente questo sicuramente e fra l'altro una delle cose che prima citavo a proposito di Mu è che perché diciamo viene data questa didascalia questa nomenclatura questa classificazione a questo territorio perduto del centro del proceano pacifico perché in realtà lo stesso Churchward e ovviamente alcuni altri esploratori ricercatori viaggiatori e chiamiamoli così turisti esploratori per certi aspetti a volte altro argomento trattato in questo testo nel quello che era un tempo il mar di Gobi oggi deserto di Gobi luogo di infiniti segreti e misteri ma così come anche il deserto di Tagli Magan e così come ancora di più i Monti Altai dove anche lì ci sono un'infinità di misteri e di ignoti assolutamente incredibili assolutamente innumerevoli ma dicevo a proposito del mar di Gobi non soltanto lo trattiamo prima non so se avevamo fatto vedere forse un'immagine del deserto di Gobi lo vediamo lo vediamo adesso che è un posto veramente incredibile ecco in questo caso vedete un'immagine con le diverse colorazioni di terre rare di minerali di vario genere che vanno a cromatizzare diciamo i vari strati di terreno e poi il mar di Gobi è estremamente grande o meglio il mar di Gobi il deserto del Gobi il mar di Gobi era presente tanto tempo fa ma in questa zona dove peraltro do una serie di notizie anche a carattere diciamo pseudo turistico perché ci sono delle località assolutamente straordinarie che chi ha la fortuna e la possibilità di fare dovrebbe andare a visitare ma insomma in questa località viene ritrovato diciamo nel sottosuolo di un paio di località importanti con vestigia limitrofe proprio al mar di Gobi o meglio al deserto di Gobi le vestigia di una città in una cui nel cui sotterraneo identificato sia da esoteristi che da Churchford che da altri ricercatori esploratori ed archeologi viene identificato come una delle gallerie o meglio come una dei possibili accessi a colonie di Mu le quali a loro volta avrebbero avuto ovviamente la possibilità di comunicare direttamente con la madre patria e in una di queste gallerie dove si cita in qualche modo la civiltà di Mu viene rappresentata un simbolo che era a quanto pare identificativo di questa società e di questa civiltà che è uguale alla lettera greca Mu ecco come viene il nome Mu come viene fuori il nome Mu da parte di James Churchward fra l'altro il mar di Gobi lo cito pure questo nel libro perché fra l'altro sono abbastanza come dire appassionato e per quanto possibile esperto un po' anche di criptozoologia devo dire che il mar di Gobi è particolarmente famoso per una per un'emergenza criptozoologica che è quello che i mongoli chiamano Algoi Karkoi se lo pronuncio bene perché insomma il mongolo non è proprio lingua madre per me ma insomma se vuoi far vedere le immagini si tratta di un'emergenza criptozoologica assolutamente straordinaria ecco questo è Algoi Karkoi che è praticamente una credo sia una ricostruzione però che in mongolo significa budello rosso e in effetti sembra un tratto di intestino ovviamente rosso sangue la presenza di questo animale perché di un animale si tratta è trattata da almeno un paio di migliaia di anni se non di più da parte di mongoli da parte di tartari da parte di cinesi da parte di viaggiatori di esploratori di gente che percorreva anche zone limitrofe alla via della seta da parte di ovviamente le truppe o meglio i cavallerizi sui cosiddetti cavallini di Presvalsky da parte di Gengis Khan e delle sue orde e insomma di tutti coloro che si sono avventuati ancora oggi in quelle zone soprattutto le zone del gobby dove c'è un po' più di umidità dove c'è qualche polla sorgiva o dopo abbondanti piogge che nel gobby possono accadere come in tutti i deserti ma come dire limitatissimamente in determinati giorni o periodi dell'anno a quanto sembra la cinematografia si è molto ispirata perché in diversi assolutamente film soprattutto con tremors dell'anno esatto esatto perché in realtà Goi Corcoi sarebbe in realtà un'anguilla elettrica noi sappiamo che le anguille elettriche esistono sulle più importanti grosse famose e anche potenti sono quelle di Rio della Mazze meglio chiamate come gymnoti e sono anguille molto grosse belle robuste e consistenti che possono tranquillamente uccidere un caimano un jaguaro o un anaconda tanto per fare un esempio e che sono oggi come oggi appunto le esponenti principali di questo gruppo biologico tassonomicamente riconosciuto ovviamente ovviamente nella fattispecie secondo molti criptozoologi e zoologi quando il mar del gobby era mare queste sarebbero state anguille elettriche che col passare dei millenni meglio delle decine di migliaia di anni si sarebbero adattate a vivere sotto le sabbie umide o addirittura nel sottosuolo del mar di gobby perché nel sottosuolo come in gran parte del Sahara e forse lo dicevamo per qualche altro motivo anche nella nostra precedente chiacchierata sui misteri e le presenze in Antartide è presente una grandissima quantità d'acqua per cui probabilmente quei mari o quegli acquitrini poi valuti eccetera eccetera che un tempo coprivano il gobby e il Sahara per una buona parte sono percolati sotto le sabbie e trovando poi uno strato impermeabile hanno costituito quelli che sono dei veri e propri mari sotterranei quindi probabilmente Orgoi Corcoi se così è si è adattato a questa vita diciamo acquatico-sotterranea o umido-sabbiosa e ogni tanto quando piove o ci sono delle bolle d'acqua emerge il problema è che quando emerge da migliaia di anni viene raccontata che utilizza probabilmente a scopo difensivo anzi credo e immagino proprio solo a scopo di un coppia veleno a distanza anche di 20 metri come un cobra sputatore e soprattutto emette scariche elettriche potentissime che abbinate al veleno sono in grado di uccidere cammelli cavalli cani pecore e buoi e naturalmente esseri umani quindi questa è un po' in sintesi la storia di Orgoi Corcoi che eppure trova spazio ovviamente nel testo se avete qualche domanda se no io proseguo perché qui gli argomenti trattati nel testo sono decine e decine io ti lascerei finire un po' anche la lezione che mi ha ipotizzato con le rettive foto ok allora altre cose naturalmente cioè il testo ovviamente non poteva non occuparsi ovviamente di molto del Sud America quindi ovviamente parliamo di Paititi naturalmente parliamo di El Dorado naturalmente parliamo di Agagor naturalmente parliamo di Zeta naturalmente parliamo di tutto di Marcauasi parliamo insomma di tante e tante di quelle città o meglio di quelle di quei nuclei di mistero di fascino di ignoto e di meraviglioso che hanno a che fare con tutte le città perdute del Sud America ovviamente per quanto riguarda El Dorado poiché mi sembra che mi avessi fatto una domanda qualche minuto fa un po' più prima un po' prima di questo momento intanto andrebbe detto che l'El Dorado in realtà poi identificato con i luoghi più disparati identificato con località specifiche piuttosto che con zone ampie di terra o con addirittura nomenclature di addirittura nazioni o di zone geografiche intere in realtà trae origine da una da una tribù in realtà venezuelana fra l'altro il nome di venezuela che significa piccola venezia era stata così denominata dai coloni e dagli esploratori tedeschi che colà appunto si erano regati e nel corso della colonizzazione ovviamente come sempre la ricerca di oro e di quant'altro di metalli preziosi gemme di quanto insomma di più come dire bramoso e ambito ci fosse in ambito naturale e nella società umana ovviamente vengono a conoscenza questi esploratori tedeschi olandesi eccetera eccetera di la presenza nella zona sud occidentale del venezuela al confine oggi col brasile e con la colombia di una tribù che mangiava con stoviglie d'oro si copriva d'oro buttava oro dentro un lago eccetera eccetera in realtà questo in gran parte avveniva realmente ma perché l'oro per questa tribù che era nicipcia non aveva proprio cioè come dire non aveva nessun interesse di tipo monetario di tipo economico di tipo di profitto di guadagno di preziosità ma era semplicemente un metallo prezioso e comunque molto bello e gradito da offrire agli dèi o comunque agli spiriti della foresta e in questo caso il capo di questa tribù si faceva cospargere di polvere d'oro e entrava poi nelle acque di questo lago sacro ecco perché Eldorado cioè l'uomo dorato e così nasce la storia di Eldorado ovviamente questa tribù venuta poi a contatto con gli esploratori o meglio facilmente sarebbe da dire con i predatori bianchi ovviamente è stata totalmente distrutta da questo contatto come è avvenuto quasi sempre fra l'altro qui mi sembrava carino perché è uno dei punti con cui vado in conclusione in questo primo volume dell'opera vado a trarre alcune come dire alcuni punti fondamentali che a questo punto anticipo rispetto alla chiacchierata che così come mi era venuto in mente mi aveva attraversato la mente di voler fare ma che aggiungo adesso perché l'occasione è come dire quanto mai propizia e opportuna vale a dire che tutto questo volume ma certamente a parte il mio tutti gli studi fatti da tutti i ricercatori gli esploratori i geografi i cartografi i marinai i navigatori i maleontologi i geologi insomma tutti coloro che hanno studiato le decine di materie che attraversano questo lavoro questo volume ma che l'hanno fatto con occhio come dire trasversale che l'hanno fatto con una velta un sound specifica non quella dell'ortodossia e che hanno cercato di guardare le cose per quelle che veramente sono e non quelle che qualcuno vorrebbe che fossero o qualcuno vorrebbe che venissero come è stato fino ad oggi come dire esportato e prodotto a uso del popolo a uso della società e quindi coloro che hanno guardato le cose con mente aperta e che hanno trovato cose che hanno costretto anche questi esploratori ad aprire la loro mente dice volevo dire sono dei punti fondamentali il primo è che l'umanità o società umanoidi hanno abitato questo pianeta e hanno prodotto civiltà avanzatissime anche di tipo tecnologico non soltanto decine di migliaia di anni fa come è stato per Atlantide per Mu per Borea per il Comarigandam e prima ancora forse per la Lemuria ma sono civiltà parlavamo prima dell'eocenica della glittolitica di quella di Tisulski parlavamo di quella del Gabon eccetera sono civiltà che addirittura spesso hanno decine di milioni di anni se non centinaia e questo mi sembra un punto importante che viene focalizzato anche da questo lavoro il secondo punto ne abbiamo parlato poco ma si potrebbe approfondire di più per esempio quando a proposito dei luoghi segreti parlo di dulze ma dicevo quello che è importante è che tantissime discipline tantissime materie tantissimi ritrovamenti tra gli altri molti Opart o molti altri studi ricerche e come dire esplorazioni ci inducono a pensare ieri come oggi che molto spesso non voglio dire sempre ma molto spesso gran parte delle civiltà umane più evolute e avanzate siano state in qualche modo condizionate imprintate accompagnate influenzate o addirittura cocreate da razze extraterrestri sia umanoidi che non soprattutto umanoidi e questo entreremo in un discorso ufologico che potrebbe essere ripreso dal momento che poi io sono etichettato diciamo già da molti anni come ufologo prima ancora che come altro quindi è un discorso che potremmo riprendere tranquillamente ma anche questo libro evidenzia in maniera abbastanza chiara e abbastanza netta tracce origini indizi reperti ritrovamenti esplorazioni certificazioni di vario tipo che in qualche modo garantiscono in qualche modo questa matrice o questa influenza nella più scarsa delle ipotesi altra cosa importante è che stiamo facendo vedere questa foto e questa è la storia visto che siamo in qualche modo ovviamente mi sa che ci ha perso lo recupereremo ok perché non aveva visto proprio sulla base di Dulce sono queste immagini che vi abbiamo mostrato in attesa che possa anche eccola qua adesso quando poi tornerà insieme a noi il professor Mariotti che avrà avuto un problema di connessione però ecco sono veramente emblematiche nonché angoscianti però ne andremo anche a parlare di sicuro io veramente consiglio la visione anche in qualche modo di più e più volte anche la primissima puntata del professor Mariotti voi mettetela anche a 075 piuttosto ma ascoltatela più volte prendendo proprio appunti perché va veramente seguito un po' aspetta che lo facciamo orientare eccoci era venuta meno la connessione in questi pochi mesi ma io semplicemente farò vedere due foto di quello che tu dicevi di Dulce e le andiamo a commentare insieme eccole qua ah sì beh questo e poi riprenderò allora quello che stavo dicendo prima questa chiaramente è un'immagine che non sappiamo quanto peridiera o meno ma è comunque iconograficamente molto significativa di quelle che molti abdotti e molti testimoni hanno detto essere presenti non solo sulle navi o sugli aereo mobili diciamo di queste creature extraterrestri ma insomma dove vengono tenuti appunto esseri umani ibridi o creature extraterrestri per i più svariati scopi e questa naturalmente invece è una rappresentazione diciamo in qualche modo in sezione della base di Dulce con almeno qui parla di sette livelli o nel libro parlo di undici livelli dove avvengono una serie di cose assolutamente orripilanti assolutamente horrifiche fra cui appunto gli esperimenti chimera ovviamente chi conosce un minimo di mitologia greca tanto per dire una mitologia classica sa che le chimere erano quella miscellanea di animali o anche di uomini come i centauri per esempio che sono stati ascritti ovviamente anche legittimamente se vogliamo un po' alla mitologia chiaramente alla leggenda al mito alla fiabba ma che in realtà oggi come oggi potremmo dire che così tanto miti che forse non sono perché se noi oggi siamo riusciti ad arrivare già alla coronazione siamo arrivati alla manipolazione genetica siamo arrivati alle staminali siamo arrivati a tutta una serie di cose almeno ufficialmente quindi non conosciamo però quello che succede in alcuni laboratori privati o a livello militare e soprattutto non conosciamo ciò che accade con la retroingegneria aliena o con i contatti di questo genere ovviamente ma insomma se noi ci siamo arrivati in qualche modo nelle vicinanze di questo argomento perché nel più lontano passato esseri extraterrestri o creature di altro tipo non possono aver lavorato in ingegneria genetica avendo magari una vedustà come dire sociale o razziale molto più lunga della nostra avendo capacità tecnologiche di gran lunga più avanzate della nostra attuale quindi su su dulze vengono fatti esperimenti chimera che significa che vengono come dire progettate delle creature che sono parte uomo parte macchina parte animale parte extraterrestre detto questo credo che sull'orribilità o sull'orificità di questa cosa non ci sia nient'altro da aggiungere andrebbe detto che ci sono ovviamente determinati scritti e determinate testimonianze su questa base che fra l'altro nella vulgata chiamiamola vulgata popolare ma diciamo nei fatti in sé per sé l'Arciuleta Mesa in New Mexico è in realtà all'interno della riserva Paci ma in realtà non è nemmeno nella riserva Paci in realtà gli ingressi a quanto sembra ricadono in quella che è la riserva Ute che è un'altra delle popolazioni indiane di quel posto e che non permette fra l'altro questa popolazione indiana l'ingresso a nessuno nemmeno alle altre tribù indiane vicini e quindi un luogo particolarmente come dire riservato non solo di per sé ma anche addirittura per la presenza di questa tribù in questa mesa quindi in questo altipiano ovviamente le tribù di signori quindi parliamo degli Avaci parliamo appunto degli Ute parliamo appunto dei Navao parliamo di tutte le tribù in qualche modo contigua adiacenti a questa zona da centinaia di anni probabilmente da migliaia parlano della presenza all'interno delle grotte delle cavità naturali di questa mesa e quindi delle profondità di questa mesa quindi il sottosuolo del popolo formica che per un ufologo significa grigi e del popolo serpente che per un ufologo significa rettili e a quanto sembra nella base sarebbero presenti oltre agli esseri umani agli ibridi entrambi ovviamente ci sono testimonianze come quella fatta da date la faietta nei suoi libri per esempio sugli Annunaki ma ci sono anche molte testimonianze ipoteticamente oculari fatte per esempio da Phil Schneider fatte per esempio da Thomas Edwin Costejo accenni a cose viciniori a queste fatte da Michael Wolff e da Bob Lazzara a proposito dell'area 51 insomma ci sono molte tracce molto indizi che in questa zona appunto chiamata base di dulze in realtà qualcosa di reale ci sia e fra queste cose che ci sono ce ne sono alcune che se vere veramente come dire definirle orribili e avergli fatto un complimento del resto sappiamo che i gentleman agreements che sono stati probabilmente effettuati a partire degli anni 30 con alcuni dei governi più importanti del mondo all'epoca Germania nazista o meglio Terzo Reich e Stati Uniti in testa prevedevano questi gentleman agreements naturalmente lo scambio e la dazione di tecnologie di vario tipo soprattutto con profilo bellico e militare sicuramente ma in cambio prevedevano cambio poi come dire del tutto come dire da argomentare per avere una base di diritto potremmo dirla noi ma in realtà insomma questa base di diritto veniva richiesta la possibilità di costruire basi sotterranee basi sottomarine basi orbitali e quant'altro e la possibilità di prelevare un certo numero di animali e di esseri umani da dedicare a determinati esperimenti ovviamente senza entrare nell'argomento perché non è l'argomento né di questa serata né del testo di cui stiamo parlando i vari governi terrestri si sono accorti dopo non molto tempo che questi spatti erano tutt'altro che rispettati e che questi signori extraterrestri facevano il comodo loro a destra a manca se vuoi quindi che abbiamo citato si parlava anche di qualche modo di civiltà sotterranea di basi sotterranee in cui compaiono anche il popolo formica e i rettiliani o i rettiloidi o un'immagine ricostruita su quello che si presume sotto Los Angeles ecco la quale se vuoi lo accenniamo è interessante perfetto bravo anche perché questo è un altro paragrafo del testo e cioè Los Angeles ante litteram e quindi la città dei rettiliani sotto Los Angeles anche di questo parliamo nel testo quindi negli anni trenta del secolo scorso alcuni alcuni ingegneri alcuni architetti alcuni ricercatori venuti a colloquio con alcune capotribù indiani con alcuni sciamani e dei nativi pelle rossa vengono a scoprire che nel sottosuolo di Los Angeles ci sono ancora oggi gallerie ed altri vestiti ed altri reperti costruiti da una civiltà lacertide potremmo definirla probabilmente così che circa 10.000 o 15.000 anni fa aveva costruito sia delle strutture epigee che delle strutture ipogee proprio nell'area che oggi è occupata da Los Angeles e quindi vennero fatti una serie di studi una serie di ricerche da parte di questi personaggi anche addirittura con il permesso del sindaco quindi della municipalità della città eccetera ricerche che poi vennero improvvisamente interrotte laddove per mancanza di fondi laddove per mancanza di alcune tipologie di risultati soprattutto economici e laddove per motivi ovviamente poco chiari e poco e poco come dire resi noti al pubblico ancora oggi però questa la testimonianza per esempio di piccola foglia verde che è il nome del capo indiano che era a conoscenza di una buona parte di gran parte di questa storia diciamo sono ancora oggi diciamo storie sono ancora oggi tramandate oralmente eccetera eccetera della presenza di questa civiltà rettile nella California nella bassa California di 15.000 anni fa probabilmente 10-15.000 anni fa che costruì in tutta una serie di strutture ipogee perché soggettata a impatti comedari e a tsunami conseguentemente venne costruite quelle gallerie che addirittura ci parlano di traiettorie e tragittiche arrivano addirittura fino al nord della California ai Monti Shasta di cui noi sappiamo credo che sappiamo alcuni di noi almeno sanno di che stiamo parlando a proposito del Monti Shasta e di altre zone di quel tipo sempre parlando di civiltà infraterrestri e mi viene da ricordare visto che prima parlavamo di argomenti ufologici che gli avvistamenti UFO su Los Angeles fra l'altro quello della famosa battaglia di Los Angeles del 1942 fra l'altro tutta una serie di avvistamenti che si sono sviluppati nel corso degli ultimi 60 anni e forse anche più ma soprattutto ci sono molte voci e molti report su basi sottomarine di fronte all'isola di Catalina l'isola di Catalina è di fronte proprio alle coste californiane non lontano da San Diego da Santa Barbara eccetera eccetera e soprattutto l'isola di Catalina è serie di un'importante base segreta navale degli Stati Uniti ma nel mare nel braccio di mare che separa l'isola dalle coste californiane sono molti lustri che si vedono entrare e uscire oggetti strani dal mare dal cielo eccetera eccetera e guarda caso strano stiamo parlando della stessa zona dove comunque si sarebbe sviluppata migliaia di anni fa questa civiltà lacertide che ha preceduto di gran lunga la nostra almeno in quella zona quindi poi volendo continuare il percorso almeno così a macchia di leopardo però volevo aprire una parentesi e richiuderla subito ma volevo in realtà un tuo parere visto che hai dedicato decenni e decenni di studi sull'argomento che effetto ti ha fatto che Rai 1 prova in seconda serata a sdoganare un po' gli UFO quindi il massimo del maestino che Rai 1 ha dedicato un documento quello fa parte del processo di acclimatazione fa parte del processo di come dire di pedagogizzazione delle masse e fa parte in maniera un po' più aperta un po' più diretta di quello che attraverso film di fantascienza di fantasy attraverso report particolari attraverso programmi particolari eccetera già da qualche che hanno o meglio da qualche lustro stanno cercando di dirci in maniera come dire fra il lusco e il brusco mi vorrebbe da dire fra l'occulto e il coperto fra il dichiarato e il non dichiarato della serie che lo dico e quello nego ma insomma come dire hanno cercato di cominciare a far capire alla società o meglio al genere umano che non siamo soli che come dire questo pianeta è in qualche modo interfaccia usiamo questo questo termine magari con visitatori o con creature o con oggetti o con tecnologie assolutamente misteriosi e sconosciuto per rimanere proprio alla superficie della questione e che probabilmente come forse tutti voi saprete io credo che qualcuno di voi lo sappia ma io sono buon testimone perché io ero davanti alla tv una forse 11 13 anni fa una cosa del genere in cui prima serata tg2 quindi rai 2 veniva data ufficiale in tv al tg delle 20 e 30 l'apertura presso il palazzo dell'onu dell'ufficio per gli affari extraterrestri questa apertura era stata dichiarata dopo un paio di settimane è stata smentita poi è stata riproposta poi è stata rismentita poi è stata rimessa e poi sono state addirittura fatte interviste alle funzionari nella fattispecie dottoresse ovviamente scienziate ricercatrici diplomatiche femminili perché sono tutte al femminile l'ultima che è attualmente credo responsabile di questa è un'italiana o di origine italiana peraltro ma insomma come dire anche in quel caso si è fatto il cui lo dico e il cui lo nego cioè vi dico una cosa la faccio ve lo dico poi la smentisco perché insomma era un po' grossina diciamo così e poi però ve lo ripropongo poi però lo confondo un po' e insomma fa parte di quello appunto che viene chiamato processo di acclimatazione e probabilmente se anche il pentagono e la marina degli Stati Uniti hanno voluto dire che ci sono una serie di oggetti che non sono ascrivibili a nessuna cosa conosciuta e che non si chiamano più UFO ma che si chiamano WAP quindi un identified aereo fenomeno eccetera eccetera è perché ormai probabilmente anzi senza probabilmente come dire gli indizi le tracce gli avvistamenti le testimonianze le visualizzazioni la presenza di telefonini di telecamere di macchine fotografiche praticamente quasi di 8 miliardi di persone sul pianeta ce l'hanno quasi tutti più o meno evoluti più o meno avanzati ma ce l'hanno tutti e quindi continuare pedisseguamente a negare un fenomeno che sotto gli occhi di tutti praticamente era sostanzialmente da imbecilli quindi praticamente stanno cercando di correre ai pari così come anni fa anche come dire alcune religioni hanno cercato di fare altrettanto adeguandosi o parlando di determinati eventi o di determinati fatti che gli consentivano come dire un ingresso più comodo al momento dell'eventuale grande contatto del famoso contatto di massa naturalmente diciamo va da sé o comunque sa passan dire che molte di queste organizzazioni di queste strutture no? è come dire molta della verità che è solo bisbigliata parzialmente o sottaciuta in realtà per loro è ben conosciuta quindi insomma questo voglio dire mi sembrava addirittura pleonastico sottolinearlo però ci tenevo quindi a un tuo parere su questo perché ho visto beh assolutamente insomma anche perché come dire insomma saranno almeno 50 anni più o meno che per esempio attraverso il cinema o attraverso documentari o attraverso programmi speciali o altro insomma in qualche modo cercano di farci capire che forse le cose non sono proprio come quelle che ci hanno sempre raccontato però tutto questo è un argomento che andrebbe di squisito in una puntata squisitamente ufologica o esobiologica che però ha veste come dire in qualche modo più piena e differente da quella di cui ci stiamo occupando stasera l'altra cosa che ovviamente volevo io aggiungere per esempio che a proposito del Kumari Gandam un'altra cosa che è molto interessante per chi non lo conoscesse non solo la città di Dvarca e in questo caso specifico nel mio libro parliamo anche nel mio volume parliamo anche di tutte le isole scomparse di tutte le isole fantasma di tutte le isole emerse e di tutte le isole che appaiono e scompaiono come nel caso dell'isola Ferdinandea di cui se vuoi possiamo mostrare qualche immagine vediamo il nostro vediamo se il nostro seguito se l'abbiamo colto impreparato se il nostro reggito ci aiuta ne hai ben due le hai preparate di sicuro no esatto ma questa è una ammadolle e va bene che farla vedere perché l'ho citata prima sia pure un passant e questa è la cosiddetta Venezia della Micronesia perché stiamo parlando di Micronesia e naturalmente è un come dire è un rebus è un mistero da molti punti di vista ed è secondo alcuni e secondo alcune fonti la probabile vestigia o la probabile ego di una colonia di mu tra l'altro insomma la Micronesia per chi ha un po' di cognizione geografica sa perfettamente che si trova al nord della Nuova Guinea di Papua Nuova Guinea e quindi come alcune isole ecco questo invece è il ponte di Rama esatto che è quello di cui volevo parlare e come vedete quella che vedete a destra se non vado errato è la propagine più orientale del subcontinente indiano quella che vedete a sinistra è invece la propagine dell'isola di Silon nel mezzo come vedete c'è questa sorta di traccia nebbiosa per cui sono centinaia di anni o meglio almeno dal inizi del secolo scorso quindi del secolo ventesimo che archeologi geologi ingegneri architetti paleontologi storici filosofi religiosi e quant'altro si scontrano sulla naturalità o sull'artificialità di questo ponte di rama o ponte di adama di adamo va detto anche che nel ramayana o comunque nelle sagre scritture hindù di certi tipi di scritti di certi tipi di contesti viene narrato che circa un milione di anni fa rama incaricò un esercito di circa un milione di uomini scimmia per costruire questo ponte in realtà sembra che ancora nel 1700 o agli inizi dell'800 questo ponte fosse ancora funzionante e percorribile per esempio sia da uomini a piedi che da persone con carretti e cavalli il ponte o meglio la struttura è lunga almeno da 33 a 35 chilometri ma mi sembra 33 chilometri ed è larga almeno 4-500 metri quindi stiamo parlando di un'opera ingegneristica particolarmente importante molto 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 antica che in realtà rendeva omogeneo e senza soluzione di continuità lo stretto di palca quindi il braccio di mare che separa l'India da Ceylon o meglio da oggi Sri Lanka e la mia personalissima idea che esprimo naturalmente nel volume è che in realtà si sia trattato di un'opera artificiale molto antica di grandissima ingegneria che però sfruttava delle emergenze naturali quindi praticamente una commistione delle due tesi chi preferisce dire che è tutto naturale chi preferisce dire che è tutto artificiale secondo me come sempre accade gli effetti sono generati da una molteplicità di fattori o di cause e in quel caso diciamo strutture emergenti naturali sono state come dire sfruttate per costruirci sopra appunto il ponte e il cosiddetto ponte di rama fra l'altro poiché si riparla del ponte di messina viste le nuove come dire aperture alle infrastrutture o alle grandi infrastrutture ma così giusto per incidenza di argomento mi viene da dire che secondo alcune testimonianze all'epoca della prima guerra punica vinta naturalmente dai romani come ben sappiamo il console romano che aveva sconfitto i cartaginesi in Sicilia per festeggiare e per favorire il rientro a Roma di una buona parte delle sue truppe dopo la vittoria fece costruire forse credo per primo un ponte sullo stretto di messina un ponte di barche fatto con grossi tini con grosse botti di legno legate a quanto sembra 4 a 4 o o a 6 a 6 con delle assi sopra legate con delle gomene legate con delle cime e con delle passarelle oltre che con dei corrimani dove sembra abbiano fatto transitare per mostrarli a Roma anche decine di alefanti catturati ai cartaginesi questo tanto per visto stiamo parlando del ponte sullo stretto e visto che parliamo del ponte di rama e visto che insomma anche se sono come dire storicamente documentati fra virgolette ma insomma l'ingegneria e l'architettura e le capacità diciamo degli ingegneri romani navali edili o di qualsiasi tipo fossero ancora oggi naturalmente ci stupiscono e ci meravigliano naturalmente e qui aggiungo sempre un'altra piccola inciso di carattere storico naturalmente tutti conoscono almeno coloro che hanno dato un po' un'occhiata almeno alla storia romana macroscopica sapranno che sia il ponte sul Reno sia il ponte sul Danubio sono stati costruiti dai romani nel giro di pochissimi giorni e stiamo parlando di distanze che sono di qualche chilometro sia per quanto riguarda la grandezza del fiume Reno ancora di più per quanto riguarda il Danubio ma appunto i romani erano in grado di fare cose straordinarie anche senza il ricorso a tecnologie particolarmente diciamo moderne o iper sviluppate ma perché avevano il redaggio secondo me che si tratti della primigenia etruria che si tratti della terrenite che si tratti della civiltà minoica che si tratti delle civiltà di Atlantide che si tratti della gran tartaria quella più antica che in realtà ma questa è un'associazione che faccio io sia pur come dire molto diluita e che le colonie mu che si trovavano in Asia sia nell'Asia orientale ma sia nel centro Asia nell'Asia centro-occidentale quasi fino all'Europa dell'Est e anzi fino proprio forse all'Europa celtica era chiamato impero viguro e quindi probabilmente gli antichi romani così come gli antichi greci influenzati dalle civiltà della mezzaluna fertile influenzati dai parti e dai persiani influenzati ovviamente dalla cultura e la civiltà di moltissime compagini sociali che ci hanno preceduto avevano di loro grande ingegno grandi capacità ma avevano secondo me pure un background che gli veniva sì dalle loro personali attitudini ma anche da molto di quello che le civiltà che li avevano preceduto o che erano voi che li avevano lasciato se vuoi abbiamo la foto che citavi prima sul eccola qua ecco questa è una foto di Ferdinandea e anche questa è una storia assolutamente particolare e soprattutto in questo caso recente è ovviamente in questo caso specifico straordinariamente documentata e certificata perché in realtà nel diciannovesimo secolo nel canale di Sicilia fra Pantelleria e Mazzara del Vallo emerge improvvisamente come dire una struttura vulcanica e si vede anche dalla rappresentazione iconografica che di un vulcano si tratta che nel giro di pochi mesi diventa un isolotto largo qualche chilometro e alto circa un centinaio di metri un'ottantina di metri sul livello del mare oggi questa zona si chiama Banco Gram o Banco Avventura chi parla c'è stato e ci ho fatto anche molti anni fa un'immersioncina il cappello della secca è fra i 6 e gli 8 metri come vedete appunto bravi in questa rappresentazione e al di sotto si sviluppa il cono vulcanico ovviamente parliamo di tutto questo come del vulcano Empedocle di cui parliamo appunto nel volume nel testo e il volume il vulcano Empedocle è il più grande di 9 coni vulcanici che si sviluppano in quella zona tenete conto che il canale di Sicilia fra Mazzara e il Banco Gram e fra il Banco Gram e Pantelleria e la Tunisia ha ovviamente diverse centinaia di metri di profondità mentre in questo caso abbiamo il cappello della secca che è a 6-8 metri quindi insomma come dire una nave che ci passasse sopra senza sapere senza guardare il portolano o le batimetriche o senza sonar o senza il radar o altre strutture ovviamente di questo genere andrebbe a impattarci in modo molto violento quindi chiaramente non è una grande nave quindi non parlo della barchetta a vela o del motor I8 chiaramente ma insomma quest'isola una volta emersa ovviamente attirò l'attenzione di quelle che erano le grandi potenze che abitavano il Mediterraneo all'epoca quindi nella fattispecie e ci mancherebbe l'Indhilterra che era particolarmente presente in Sicilia oltre che per motivi geopolitico strategico militari era presente in Sicilia per motivi commerciali perché soprattutto questa però credo che sia atlantropa ma ne parleremo in completamento praticamente era in Sicilia soprattutto per il commercio di vino in particolare del vino Marsala che in epoca previttoriana e vittoriana era diventata una delle bevande più richieste più prestigiose e raffinate che si potessero bere nella vecchia Inghilterra o meglio nel regno nell'impero britannico almeno inglese e quindi nelle isole britanniche e quindi l'Inghilterra inviò in mantenente si potrebbe dire ovviamente una sua imbarcazione lì con appunto il capitano Graham ecco perché il banco Graham e che pose la sua bandiera sull'isola dicendo che quella nuova isola quella nuova terra emersa dal mare era possedimento inglese due giorni dopo vi arrivò un francese Jules appunto viene chiamata Isola di Jolie o Isola di Luglio dai francesi e se non mi ricordo male il nome e praticamente fecero la stessa cosa entrando in aperto conflitto con gli inglesi per il possesso di questa nuova terra buon ultimo last but not last mi vorrebbe da dire Re Ferdinando II di Borbone giustamente e legittimamente dicendo che quel fatto avveniva nel mare antistante la Sicilia e quindi il regno delle due Sicilia e il regno borbonico quell'isola era borbonica e quindi una terza nave una terza spedizione anche con un geologo molto famoso della Università di Catania si regò sul posto per apporre la propria bandiera e i propri simboli ecco perché fra l'altro nella nostra accezione italiana l'isola è chiamata Ferdinandea perché fa il capo a Ferdinando II di Borbone e tutte queste diatribe internazionali diplomatiche di vario genere cessarono di esistere perché 6-8 mesi dopo l'isola tornò nuovamente sott'acqua c'è stato un accenno di riemersione intorno agli anni in cui c'è stato il terremoto del Belice e c'è stato un nuovo accenno intorno agli anni 2000 in cui bolliva l'acqua in cui c'erano molta sospensione c'erano molto fango c'erano insomma tutti i segni di una possibile riemersione di quest'isola o meglio di questo cono vulcanico cosa che però non è accaduta e si è fermato appunto ai 6 metri sotto la superficie del mare ma in entrambe le occasioni i subacquei sia di Mazzara del Vallo soprattutto ma credo anche di Porto Empedocle si recarono sul posto e apposero sulla cima sul cappello della secca in realtà sulla cima del vulcano delle targhe dove si scriveva che quest'isola sommersa e anche e soprattutto qualora riemergesse sarà e rimarrà sempre un'isola siciliana ovviamente nel caso del vulcano Empedocle non c'è soltanto il cono dell'isola Ferdinandea ma come dicevo tutto intorno ci sono altri 7-8 coni di diversi vulcani che formano un'enorme caldera un po' come la caldera di Campi Flegrei e che tutti insieme dai geologi e dagli oceanografi e dai vulcanologi e geologi marini sono stati definiti appunto come vulcano Empedocle anche perché appunto ripeto nella zona siciliana in provincia di Agrigento il porto insieme con Mazzara del Vallo che è trapanese se non ricordo male ma Porto Empedocle è Agrigentino quindi chiaramente lo hanno chiamato così quello che andrebbe aggiunto è che tutta la zona è particolarmente come dire fertile chiamiamola così di bocche vulcaniche e che anche la vecchia pantelleria che fra l'altro è oggetto dell'altro del secondo volume vede sott'acqua una quarantina di metri di profondità tutta una serie di reperti megalitici enormi non troppo dissimili da quelli già presenti sull'isola di Malta fra l'altro pantelleria è vulcanica mentre invece Linosa e Lampedusa che sono le altre due componenti a meglio le tre componenti delle isole pelagge mentre Linosa è anch'essa vulcanica come pantelleria ma fa parte delle pelagge sia Lampione che Lampedusa invece sono uno zoccolo calcario perché vi parlo di tutto questo perché nel testo parliamo anche della crisi di salinità del Messiniano e quindi di ciò che è accaduto tante tante decine di migliaia di anni fa quando per motivi o di tipo orogenetico o di tipo geologico lo stretto di Gibilterra si chiuse all'Oceano Atlantico per molte migliaia di anni determinando il parziale prosciugamento di tutto il Mediterraneo occidentale e facendo sì che tutto il Mediterraneo occidentale quindi la Corsica la Sardegna il Mar Ligure il Golfo del Leone le Baleari le altre isole spagnole che si trovano di fronte all'Andalusia la costa attualmente algerino marocchina tunisina eccetera eccetera venissero sostanzialmente allo scoperto in secca con alcuni piccoli laghetti diciamo così chiamiamoli laghetti di acqua marina ancora presente fra l'altro ritornando a un discorso legato alla geologia che abbiamo parimenti saltato dopo aver citato soltanto la fotografia con Valbara che poi è scomparsa nelle nebbie della regia ma per carità no problem ci mancherebbe anche perché gli argomenti sono tantissimi quindi faremo mattina per citarli non manco tutti ma almeno una parte in più ma insomma soprattutto i vari continenti che ci hanno preceduto quindi Valbara ecco questo è Valbara Rodinia piuttosto che la Pannozia la Pangea la Condvana la Laurasia e in molti altri diciamo così sono tutti argomenti propri del libro proprio della parte geologica dove soprattutto la cosa importante per me che non sono un geologo quindi chiaramente ho cercato di barcamenarmi con una scienza particolarmente importante e complessa quale è quella della geologia di barcamenarmi per esempio evidenziando un paio di concetti importantissimi oltre quelli della continua ciclicità su questo pianeta della tettonica zolle della deriva dei continenti eccetera eccetera ma soprattutto di orientarmi sulla presenza dei cosiddetti cratoni e sulla cosiddetta presenza dei zampilli di Morgan i cratoni sono ovviamente quelle strutture antichissime fra le più antiche della terra che hanno portato e determinato la prima immersione dal grande oceano primordiale unico che poi nelle epoche successive sarebbe diventato Pantalassa ma che poi per altri aspetti ancora successivi fra la Vangela e la Gondvana se la memoria non mi inganna hanno generato un altro grande mare che si chiamava Tetide e fra l'altro di questo oceano antichissimo di centinaia di milioni di anni fa nella nostra Italia abbiamo ancora oggi un sopravvissuto e questo sopravvissuto è il Tirreno Meridionale dall'epoca della Tetide nella zona del Tirreno Meridionale quindi dove sono le Olie dove ancora oggi c'è il vulcano Marsili e il vulcano Palinuro oltre a tutta una serie di altri vulcani come il Sabatini il Bavilo i Magnachi eccetera questa zona è sempre stata coperta dalle acque da centinaia di milioni di anni fa e ancora oggi in tutto il Mediterraneo a parte la fossa dello Ionio il Tirreno Meridionale è una delle parti più profonde di tutto il mare Mediterraneo ritornando a quello che dicevo prima e cioè al fatto della glisi di salinità del Messiniano considerate che quando la barriera del stretto di Gibilterra ha cominciato a disgregarsi e quindi l'Oceano Atlantico ha cominciato nuovamente a riversarsi all'interno del bacino del Mediterraneo intanto le cascate che c'erano in quel punto erano alte quasi tre chilometri ed erano enormi perché erano le cascate determinate da un intero oceano l'Oceano Atlantico che cercava che si stava riversando laddove per gravità l'acqua trovava la sua strada ma tutto ciò ha determinato a mano a mano che il bacino del Mediterraneo occidentale e parzialmente centrale andava nuovamente riempiendosi ha determinato un'altra cascata importantissima che è quella del canyon di Noto Noto è città famosa anche per il barocco siciliano della Sicilia sud orientale quindi tutta la zona modica Noto Ragusa Siracusa i Montiblei Capopassero eccetera eccetera fra l'altro località ai più conosciute perché come dire location della serie di Montalbano ma insomma il canyon di Noto si chiama così perché quando l'acqua dell'Aceano Atlantico ha nuovamente riempito il bacino occidentale centrale del Mediterraneo ha creato appunto un canyon ricadendo come cascata in questo caso alta circa chilometri otto ha creato un canyon grandissimo che ancora oggi a livello sottomarino c'è e si chiama canyon di Noto e di tutto questo ne parlo proprio a proposito della parte geologica di questo volume di quest'opera e ancora ne potrei parlare e avete fatto vedere un'immagine prima a proposito di Atlantropa Atlantropa è messa in questo testo come curiosità e come tale per certi aspetti ovviamente è rimasta perché negli anni trenta del secolo scorso un architetto tedesco piuttosto ingegnoso e per secondo me anche geniale ma un po' forse eccessivo diciamo aveva pensato che in virtù della tecnologia già presente circa cento anni fa in Europa si sarebbe potuto tentare di prosciugare la parte centro-occidentale del Mediterraneo per creare naturalmente tantissime terre nuove da coltivare da irrigare e far espandere in questo caso l'Italia la Spagna la Francia e le loro colonie in maniera come dire pacifica senza dover entrare in conflitto per motivi geostrategici o di risorse l'idea da questo punto di vista poteva anche essere non del tutto peregrina ovviamente i problemi di carattere ingegneristico e di carattere diciamo strutturale e costruttivo erano enormi ma questo progetto fra l'altro prevedeva anche la costruzione di un enorme canale attraverso il Sahara che avrebbe da un lato rimpinguato le acque del lago Chad che oggi è molto ridotto e direi che è un lago quasi in estinzione purtroppo e contemporaneamente avrebbe consentito la costruzione e la strutturazione di un grande lago ancora più grande del lago Chad che era il lago Congo nel Congo centro-settentrionale tutte queste strutture sarebbero state collegate fra loro per dare impulso anche al sviluppo dell'Africa e sviluppo quindi agli stati africani e liberarli in un certo senso forse per alcune sfumature dal colonialismo imperante che ancora oggi è là presente in tante altre forme non direttamente fisiche ma da tutti gli altri punti di vista ma questo non sarebbe argomento della nostra chiacchierata e insomma questo progetto è andato avanti per molto tempo lo stesso Führer che conobbe l'architetto in questione si era dimostrato inizialmente favorevole a questa possibilità poi vedendo che questo avrebbe probabilmente non solo le grandi difficoltà tecniche ed anche economiche ma avrebbe probabilmente molto modificato e cambiato i suoi progetti espansionistici non gli diede più seguito ma l'idea in quanto tale non è morta con gli anni 30 e con l'inizio della seconda guerra mondiale ma fino ancora alla fine degli anni 50 organismi preposti come dire sovranazionali e multieuropei avevano continuato a sviluppare il progetto di questa appunto atlantropa per prosciugare almeno parte del Mediterraneo occidentale e del Mediterraneo centrale con tutte le altre caratteristiche annesse che in modo molto schematico avete visto nella cartina che è stata proposta e prodotta naturalmente insomma questo progetto è molto particolare credo poco conosciuto e mi sembrava valesse la pena di inserirlo all'interno di questo volume di questo primo volume proprio per la sua specificità ma anche per la sua trasversalità rispetto alla geologia rispetto alla geografia rispetto alla tecnologia rispetto alle valenze politico strategiche e anche alla cosiddetta geopolitica delle risorse e che insomma è molto attuale diciamo così quindi ecco questo è un po' in forma estremamente come dire sintetica in forma estremamente a macchia di leopardo afflesce un po' la filosofia di quest'opera che ritengo possa essere veramente di buon ausilio per tutti coloro che non conoscono così tante particolarità e così tante cose su questi argomenti ma che hanno la possibilità di averne come dire una tangibile come dire sostanza una certa per quanto sintetica esaustività ma insomma è una sorta di compendio tutto sommato per propri motivi breve ma neanche tanto perché comunque sono quasi 300 pagine di libro ed è solo il volume 1 e conseguentemente credo che possa essere un valido supporto per tutti coloro che sono comunque curiosi affascinati interessati e comunque coinvolti da tutte queste tematiche che naturalmente come tu ben sai e che ormai hai acquisito da tanti anni e Gianluca si intrecciano fra loro in una matassa che è pressoché inestricabile cosa che se ci fai rivedere le immagini di Mesbet così del libro lo ripetiamo perché è anche disponibile Patrizio Romano Mariotti Meridiano 361 Parallelo 181 Terra in coni e dintorni che poi è anche un po' abbiamo indicato il titolo sì esatto sarà presente in libreria credo per la fine di questa settimana e quindi insomma tutti coloro che sono interessati possono credo insomma con buon animo approcciarsi a quest'opera che credo insomma sia degna di riguardo ma non perché l'ho fatta io ma insomma non molto diffusa diciamo nella sua filosofia nella sua strutturalità non ce ne sono tante altre fatte così quindi insomma credo che sia un po' un unicum e può valere la pena insomma di buttargli un occhio di dargli un occhio come dice Mariano non è un libro è un'enciclopedia e in un certo senso più che un'enciclopedia è un'atlante diciamo è un'atlante esaustivo ma sintetico di tutte queste cose poi grazie di cuore a Veronique grazie di cuore anche a tutti i sostenitori e abbonati del canale e veramente se c'è qualche domanda che volete fare io sono qua volentieri approfittiamo anche della diretta mi scrivete domanda ovviamente on topic anche se già solo on topic questa sera in realtà abbiamo raccontato veramente gran parte della storia dell'umanità e non solo informazioni sulle piramidi italiane ci dice Nessu sarà un oggetto di alcuni capitoli del volume secondo soprattutto per quanto riguarda la Sardegna per quanto riguarda la Sicilia per quanto riguarda la Lombardia per esempio Chiari per quanto riguarda la Basilicata e per quanto riguarda anche la Campania quindi l'Italia non è per niente priva di piramidi anzi ovviamente sono abbastanza piccoline ma sono piuttosto presenti e sono molto significative per tante altre diciamo correlazioni ok e poi ci chiedono anche cosa può dirci delle antiche costruzioni irlandesi che presentano mure fuse in un punto ma per quanto riguarda lo specifico io personalmente insomma un po' di anni fa ho visitato Newgrange per esempio ho visitato alcuni luoghi come dire del neolitico irlandese particolarmente importanti e meravigliosamente belli almeno per quanto mi riguarda ho visto pure le Calaniche Standing Stone in Scorsia insomma un po' qualcosa della cultura celtica ho avuto modo di visionarlo alcune che io sappia di questi punti dove c'è una sorta di fusione della roccia le spiegazioni possono essere diverse almeno per quanto mi riguarda da un lato ci può essere stato anche in quel caso perché non va dimenticato che nell'antica mitologia irlandese l'antica Irlanda ma proprio quella molto antica quella che ovviamente precede la cultura celtica di molti migliaia di anni è stata come dire informata dalla cosiddetta cultura di Tanata de Tanan vale a dire degli extraterrestri umanoidi o umani se dirsi qua potremmo chiamarli nordici sostanzialmente a tutti gli effetti come macro macro collocazione esobiologica e che erano dei capelli rossi con gli occhi verdi con gli occhi azzurri la pelle chiara abbastanza magri piuttosto alti che sono scesi dal cielo sulle loro uova d'argento sulle loro navi d'argento quindi probabilmente alcune delle tecnologie legate alla costruzione di taluni o di parti di talunesidi potrebbero essere legati anche a tecnologie come dire indotte o comunicate da compagini di questo genere e dopo di che ho citato non a caso ma questo non so se sia vero anche per l'irlanda ho citato non a caso voglio dire le erbe litolisi che io almeno le chiamo così che le SS nell'erbe cercavano e di cui c'è testimonianza soprattutto nel mondo andino nel mondo amazonico andino che erano erbe che erano debitamente come dire lavorate debitamente come dire utilizzate erano in grado di liquefare la roccia e quindi una volta avvenuto questo fenomeno di litolisi così come lo chiamo io come dire cementare in qualche modo posizionare le rocce l'una accanto all'altra in modo assolutamente perfetto e senza l'utilizzo come dire di alcuna malta di alcuna di alcun legame di alcun collante perché il collante era una roccia medesima lo abbiamo accenato prima ma Mariano ci chiede che ne pensa il prof del lavoro del Rabdo Team sono molta stima per loro sono anche insomma in conoscenza con alcuno di loro di cui ovviamente ho molta stima è una cordiale conoscenza eccetera eccetera se sarà possibile anche ci ripromettiamo anche una qualche forma di connessione o di contatto o di collaborazione almeno su qualche argomento comunque ho stima di loro e vi dico che vale la pena di leggere sia il Risveglio degli Antichi che il Diario degli Antichi e tu sei molto umile allora lo dico io e le hai fatto anche le hai dato un grande aiuto perché le hai dato un contatto ponte per qualcosa che potremmo poi vedere di una collaborazione futura che seguirà in Banco Unito ci sono vari work in progress sull'argomento sì assolutamente sei stato fautore su queste tematiche seguiranno novità allora David ci collega sulla Sardegna la Sardegna è una terra che veramente io ho notato attira veramente grande curiosità perché risuona quindi proprio dalle civiltà nuragiche ai giganti in quello che è in qualche modo la Sardegna la Sardegna secondo me a parte le civiltà pre-nuragiche perché la città nuragica è piena di misteri è piena di fascino la presenza dei giganti è un altro di quegli argomenti straordinariamente importanti per la nostra civiltà ma ancora più e penso che ormai sia relativamente di non dico di dominio pubblico ma relativamente diffuso non solo in Sardegna tutto il lavoro fatto a proposito dei cosiddetti nemmeno uomini delle cosiddette creature blu che scesero in Sardegna molte migliaia di anni fa e che avevano un vomere sulla testa oltre che una sorta di punto rosso eccetera eccetera e che diciamo ovviamente figure di questo genere non possono che essere extraterrestri anche perché vengono definite discese dal cielo quindi come dire no abbiamo già detto tutto fra virgolette ma l'unica almeno per quella che è la mia attuale conoscenza a parte gli azzurrei cioè i pick and town di cui tu probabilmente avrai già parlato con alcuni tuoi relatori molto affezionati del canale e ovviamente per quanto riguarda per esempio alcune tipologie di entità o meglio di creature con la pelle blu che o con la pelle azzurrina che comunque appartengono al mito alla storia al folklore di molte altre razze naturalmente i vi incluse quelle in due perché molte divinità in due avevano la pelle azzurrina ma insomma queste della Sardegna vagamente mi sembrano rassomigliare così in una come dire classificazione molto generica e molto come dire panoramica mi ricordano un po' alcuni tipi di razze extraterrestri con quella colorazione che vengono definiti da alcuni cassiopeia italiani però questo aspetto degli uomini blu del meglio gli uomini delle creature blu scese dal cielo in Sardegna mi sembra tanto quanto i giganti o la civiltà nuragica prenoragica gli sciardana piuttosto che le civiltà megalitiche prenoragiche che hanno a loro volta dei misteri incredibili eccetera eccetera mi sembrano però fra le emergenze più affascinanti del mondo dell'isola degli sciardana anche lì seguiranno approfondimenti perché basti vedere come anche in seguito a tante puntate che abbiamo fatto si riscontra proprio una difficoltà e un ostracismo anche solo in chi vuole chi vorrebbe scavare interviene subito qualche autorità a fermare ogni tipo di ricerche e di scavi in gran parte della zona della Sardegna quindi in realtà lì è un nervo scoperto per il mainstream verrebbe da dire di cosa hanno tanto paura ecco lo citavano anche in chat diverse morti misteriose perché indagano scoprono ecco mettono tutto ecco poi un'altra un'altra cosa ma lo dico solo come flash perché insomma già credo di avere come dire imbottito abbastanza o più che imbottito insomma tempestato abbastanza agli ascoltatori di notizie di informazioni di dati sia pure brevi sia pure a flash insomma comunque altro argomento fra i tantissimi altri che sono presenti nell'opera nel testo ovviamente sono le olgius siberiane con tutto ciò che di misterioso si portano dietro dalla presenza del ciociune che è lo iedi siberiano tanto per essere chiari alla presenza di queste appunto cupole di rame di metallo all'interno delle quali c'è sicuramente un campo radioattivo molto potente dove gli acuti cioè quindi le popolazioni siberiane che nella zona comunque vivono hanno estremamente insomma estrema timore di entrare in queste strutture anche perché chi c'è entrato non sempre ma con una relativa frequenza poi si è ammalato fino a morirne con sintomi classici della radioattività ma quello che è più importante è che queste strutture sembrerebbero secondo studi degli scienziati russi essere parte di una sorta di sistema difensivo che almeno in Siberia o nelle zone settentrionali dell'emisfero boreale dovrebbero contribuire a formare una sorta di scudo una sorta di rete protettiva da impatti meteorici e cometari tant'è che probabilmente Celiabinsk è l'ultimo ma anche Dunguska precedentemente anche quello della valle della morte circa 800 anni fa sono probabilmente esempi o ipotesi di esempi in cui questo sistema d'arma perché lo potremmo ipoteticamente definire così per qualche aspetto o in qualche modo è ancora operativo perché lo stesso Celiabinsk e la stessa Dunguska e lo stesso altro avvenimento che ho citato se non fossero stati in qualche modo come dire attutiti se non fossero stati in qualche modo filtrati diciamo così da qualcos'altro avrebbero generato altro che gli impatti o i fenomeni che abbiamo visto quindi è molto probabile che questo sistema d'arma o similare in qualche modo esista ancora e sia forse o parzialmente o in qualche modo operativo ma è tutto da scoprire da disquisire su chi l'abbia costruito quando e come perché Siamo allo scoccare delle due ore veramente vi rinvito a riascoltare più volte tutta questa puntata è un grande invito a chi è professionista delle clip a prendere e strapolare anche solo pochi minuti e dargli un titolo come un singolo argomento per renderli fruibili su tutti i social TikTok Telegram Instagram Facebook i cosiddetti Reel quindi veramente invito anche tutti gli appassionati del canale perché anche quello è un modo di contribuire clipando prendendo dei pezzettini e mettendoli in rete c'è anche chi è bravissimo gli aggiunge foto grafiche insomma tutto ciò che il linguaggio odierno permette di arrivare anche alle fasce più più giovani dei fruitori delle piattaforme social perché è importante che di questi argomenti si parli è importante far capire da subito che esiste un'altra versione e che se non capiamo il passato non abbiamo veramente chance di capire il presente e neanche di anticipare quello che sarà il futuro che è un po' come una partita a scacchi l'unica ancora meno la possibilità di comprendere il futuro ma sai perché al di là di quelle che sono le diciamo verità o comunque le dinamiche storiche del passato e del presente poi sappiamo tutti che per tanti aspetti non voglio neanche dire tutti ma per tanti aspetti ovviamente il presente è il figlio del passato e il futuro probabilmente è il figlio del presente ma perché la conoscenza del passato ci dà la possibilità di comprendere meglio il presente e forse almeno per qualche come dire risvolto ipotizzare una possibile scenario futuro per un motivo che ritroverete sempre nel mio testo nelle conclusioni e cioè che l'animo umano purtroppo non è cambiato mai e siccome le cose si ripetono non solo per la ciclicità a cui accennavo di carattere astrofisico o di carattere astronomico o per il cosiddetto algoritmo o concetti similari ma le cose si ripetono anche perché chi ci ha visitato probabilmente ha sempre interessi particolari o specifici e perché di fatto o in conseguenza o a prescindere sostanzialmente l'animo umano non è mai cambiato e quindi al di là delle tecnologie al di là delle modalità al di là delle strategie o delle strutture sociali politiche economiche che di volta in volta si sono succedute poi chi è protagonista ovviamente di tutto è sempre l'uomo sempre l'essere umano per tanti aspetti e se quelle attitudini di predatorietà di egoismo di ecocentrismo di superbia di arroganza di sfruttamento dell'ambiente di sfruttamento degli animali di sfruttamento della natura di sfruttamento degli altri esseri umani non vengono mitigate non vengono fermate per alcuni aspetti le modalità no serve sapere il passato per conoscere un po' il presente e forse il futuro quindi le modalità sono sempre tutte da scoprire ma il concetto di base l'essenza non è tanto difficile da scoprire perché se l'animo umano non cambia le dinamiche le dinamiche continueranno a essere purtroppo sempre quelle anche questo è degno di una clip e quindi queste parole vanno ricordate grazie di cuore professor Mariotti Patrizio per essere stato grazie a voi Gianluca con noi di tanto in tanto torneremo a trovarti perché abbiamo visto che qua stiamo veramente grattando la punta dell'iceberg però di ogni di ogni parola che ci hai detto ci starebbe una puntata ma se ce lo lasceranno fare questo è solo l'inizio di un percorso 400 puntate due anni insieme e milioni di persone raggiunte siamo solo all'inizio di un percorso complimenti sai bene che te li ho già fatti con sincerità grazie mille perché io poi fra l'altro andrò avanti finché mi divertirò tantissimo nel farlo come questa sera che è veramente un piacere parlare con te e sono chiacchierate che avrei fatto comunque e quindi perché non condividerle con tante più persone possibili che hanno i nostri stessi interessi è bello sentirti parlare c'è chi dubitava anche del tuo essere terrestre per la quantità di informazioni che riesce a dare ma questo è frutto veramente di tanti 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 anni di studio assolutamente sì anche questo deve essere ad esempio per chi si approccia a queste tematiche dietro ci sono anni e anni e anni di studi e si vede perché ma masticare in questo modo riuscire ad avere anche una mappa concettuale e a riuscire di ogni argomento a essere preciso e andare nel profondo questo lo si può fare solo dopo tanti 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 anni di studio studio che a quanto pare è tanta passione peraltro è tanta passione ecco questa passione manca nei professori attuali che in realtà dicono ormai non hanno troppo di ragione e non hanno più voglia di studiare ormai loro sanno tutto esiste quella versione lì si fermano perché si sono in qualche modo autoreferenziati si sono persi la faiette avremo modo di riparlarne perché Lorenzo ci fa proprio una domanda sulla faiette sì varebbe la pena anche perché ti ripeto ci sono ormai non dico tante però ci sono fonti diversificate sulla presenza di questa compagine io manco li chiamo più extraterrestri li chiamo compagini di questa compagine che visto che io insomma ho approfondito nel passato recente anche un po' di queste tematiche e anche il ritorno degli Anunna nel 2022 che ormai sta finendo dicembre eccolo quindi vedremo se del caso qualora dovesse accadere qualcosa non mi pronuncio ovviamente i propri motivi perché dispongo della sfera di cristallo ma insomma ci sono diverse voci chiamiamole così o diverse fonti che parlano di questa compagine chi lo sa potrebbe valere la pena di fare una chiacchierata anche su questo molto volentieri direi che per quest'oggi è tutto cercate facciamo finta che su tutti i social metteremo i riferimenti del libro il professore in descrizione al canale grazie di cuore a tutti quanti sostenitori veterani abbonati promo sigla appuntamento alla prossima grazie arrivederci come scrisse Giorgio Orwell chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato facciamo finta che è il canale youtube ideato e diretto da Gianluca Lamberti sono quattro i nuovi video ogni settimana il lunedì il mercoledì il venerdì e la domenica alle 21 e 30 in diretta sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione facciamo finta che è presente su ogni social a te basterà seguirci grazie